Siamo quindi pronti per iniziare, come dicevo prima grazie per essere intervenuti, grazie a nome dell'Associazione Parmaetica, vi ricordo che l'Associazione Parmaetica è composta da volontari che si prodigano per la buona riuscita di questo festival, si muovono anche per la raccolta dei fondi, quindi ricordiamo che grande dell'opera che viene fatta per il festival li impegna in questo senso, se volete anche voi contribuire c'è la possibilità di diventare soci dell'Associazione, dare un aiuto partecipando alle conferenze che vengono organizzate durante tutto l'anno o altrimenti acquistare i nostri gadget. Grazie per essere qui con noi, il tema di oggi lo sapete è un tema molto importante, troppo spesso penso sottovalutato e ricordiamo il titolo della conferenza è crimini contro gli animali influssi sui comportamenti violenti della società, maltrattamenti sugli animali e violenza sugli uomini c'è quindi un legame, la violenza è un passo obbligato per i movimenti di giustizia sociale, parleremo di questo ma anche di tanti altri argomenti grazie all'intervento dei nostri ospiti, ad iniziare da Davide Acito, ricordiamo Davide si impegna dal 2016, cerca di fermare la strage dei cani del festival di Yulin, è fondatore dell'associazione Action Project Animal e quindi grazie per essere qui con noi. Un'altra presenza femminile questa volta è quella di Alice Calvi Barantani dell'associazione Link Italia, ricordiamo è esistente questa associazione per cercare di spiegare quelle che sono proprio le correlazioni tra i maltrattamenti, le uccisioni degli animali e ogni altro comportamento violento, antisociale e criminale e quindi grazie anche ad Alice. Poi abbiamo il piacere di avere con noi il veterinario omeopata Marco Verdone, autore insieme a Silvia Buzzelli e anche a Carlo Mazzerbo del libro Salvati con nome, un testo nato in ambito giuridico che vede anche un capitolo dedicato proprio all'esperienza di rieducazione alimentare cruelty free tenuto dall'associazione Parma Etica nel 2017 e alla fine la dottoressa Anna Maria Manzoni, psicologa e psicoterapeuta, opera poi ricordiamo con il tribunale di Monza, il tribunale dei minori di Milano, insomma tante collaborazioni per lei soprattutto vicina ai minori e quindi grazie per la sua presenza quest'oggi. Lascio quindi la parola ai nostri ospiti e ancora una volta vi ricordo se poi al termine della conferenza doveste avere delle domande c'è la possibilità di porle. Grazie ancora. Grazie, allora io andrei ad iniziare, ricambio naturalmente i ringraziamenti a voi e farò una piccolissima presentazione di quello che faccio io all'interno dell'associazione. Io mi chiamo Alice e da qualche anno, dal 2014, sono parte del consiglio direttivo dell'associazione Link Italia, associazione di promozione sociale. Il mio operato con l'associazione inizia nel 2013 quando ero studentessa di psicologia qua a Parma e decisi di fare tirocinio presso la loro associazione. Successivamente e per questo ringrazierò sempre la mia professoressa di psicologia sociale che mi diede la possibilità di fare una tesi sull'argomento, quindi andai a sviluppare, ad entrare ancora di più nel tema e nel fenomeno e ci tengo anche prima di iniziare a ringraziare tantissimo per le possibilità che mi sono state date Francesca Sorcinelli che è la presidentessa dell'associazione. Quindi entriamo nel vivo. Link Italia nasce come associazione nel 2012 e vede un periodo di incubazione all'incirca dal 2006 al 2009, anni che sono serviti allo studio della infinita e sconfinata letteratura scientifica internazionale di cui noi abbiamo a disposizione e dal 2009 nasce il progetto Link Italia. Era un progetto dedicato a colmare i vuoti scientifici e portare le consapevolezze statunitensi qua in Italia. Finalmente nasce nel 2012 l'associazione vera e propria e ci vede costituiti da un team di professionisti che vogliono andare a rendere le consapevolezze teoriche anglosassoni in termini pratici e operativi. Siamo infatti, abbiamo una letteratura davvero sconfinata, sconfinata anglosassone statunitense e i ricercatori iniziano a studiare l'argomento proprio da fine ottocento. Quindi noi come associazione ci auspichiamo non solo di raggiungere il loro livello, bensì anche di andare oltre, quindi non ci poniamo limite, e anche di raggiungere altri paesi nel mondo. Per non dilungarmi troppo l'associazione è questa e vado subito a definire quello che si intende per Link. Link è un termine che dall'inglese, dall'inglese comune significa il legame e viene utilizzato però come termine tecnico da quelle discipline quali la psicologia, quali la criminologia e va ad indicare la stretta, la strettissima correlazione che esiste tra il maltrattamento degli animali, la violenza interpersonale e ogni altra condotta deviante, antisociale e o criminale. Dico ogni altra condotta deviante, antisociale e criminale perché già di per sé il maltrattare o uccidere animali è una condotta deviante o antisociale. Questo è quello che noi intendiamo per Link, è un termine tecnico utilizzato da moltissime discipline. Ci sono infatti studi scientifici internazionali e nazionali che confermano il fenomeno e come vedremo più avanti noi vediamo una scienza che può essere definita scienza contro scienza. Prendiamo ad esempio la sperimentazione animale, quindi un gruppo di scienza che dice è assolutamente necessaria per fare progredire l'uomo, per fare progredire la medicina e invece una parte, un filone che è completamente opposto che afferma l'esatto contrario, quindi è pericolosissimo, anzi rallenta il progredire della medicina. Tutto questo con il Link, con il fenomeno Link non avviene, cioè non abbiamo una scienza contro scienza, non c'è un dibattito, tutti vanno nella stessa direzione, quindi anche nel momento in cui c'è competizione tra le parti è una competizione che dice il mio studio, la mia ricerca lo spiega meglio della tua, è più sofisticata della tua, ma comunque c'è una direzione ben comune e ben precisa. Questi studi vengono effettuati attraverso degli studi definiti di tipo retrospettivo, tutta la letteratura scientifica anglosassone utilizza questo tipo di studio. Cosa si intende per studio retrospettivo? Lo studio retrospettivo ci consente di andare ad indagare in quello che è stato il passato dell'individuo in questo caso, quindi prendiamo persone adulte che abbiano una caratteristica in comune. Andiamo a puntare la variabile che ci interessa misurare e andiamo a vedere se questo individuo nell'infanzia e o nell'adolescenza, a dire il vero, se il subire, scusatemi, se l'agire maltrattamenti o uccidere animali è andato ad influire sull'essere diventato uno stalker, un pedofilo, un sex offender, quindi se l'elemento maltrattare e o uccidere e o essere esposti alla violenza e al maltrattamento sugli animali va ad incidere sull'essere diventato poi un serial killer, uno stalker. Infatti l'associazione partiva assolutamente da zero ed è con grandissimo orgoglio che io adesso posso dire che esiste una prima letteratura scientifica sull'argomento qua in Italia, sono state, continuamente noi portiamo avanti la raccolta dati e da tutti i dati raccolti in tutti questi anni noi abbiamo costruito un database dei casi link. Che cosa si intende per casi link? E ci tengo a leggere con voi che cosa si intende. Il maltrattatore ha compiuto o compie contemporaneamente anche altri atti devianti, antisociali e o criminali. Il maltrattamento di animali è parte integrante di un altro crimine o atto deviante come omicidi, come stupri, come stalking, violenza domestica, pedofilia, atti intimidatori di stampo malavitoso, crimini rituali, crimini predatori, bullismo, spaccio di droga, ad esempio. Il maltrattamento di animali è contemplato nelle parafilie classificate dal DSM e dagli CD10 e ancora il maltrattatore è un minorenne coinvolto o meno in altre forme di devianza o di comportamento criminale. Infine il maltrattamento di animali è avvenuto al cospetto di un minore. E' molto importante definire che cosa si intende per caso link perché questo ci ha portato alla creazione del report, uno studio scientifico al quale io ho partecipato in prima persona. Ci siamo recate in moltissime carceri d'Italia e abbiamo avuto accesso, grazie alla collaborazione naturalmente con il corpo forestale dello Stato, in particolare il nucleo investigativo per i reati in danno agli animali e anche attraverso la collaborazione del DAP che è il Dipartimento di Amministrazione Penitenziaria, abbiamo creato ad hoc dei questionari e sulla base di tutti gli studi della letteratura scientifica statunitense anche noi abbiamo condotto uno studio di tipo retrospettivo. Creazione ad hoc dei questionari, avevamo accesso alla media sicurezza, moltissime carceri d'Italia, quindi un campione molto ampio e questo ci ha portato alla definizione del profilo zontropologico comportamentale e criminale del maltrattatore e uccisore di animali. Io vi leggo qualche dato, ce ne sarebbero tanti altri, ho raccolto questi che mi sembrano quelli che più spiegano il fenomeno, noi abbiamo studiato 682 casi, quindi abbiamo intervistato 682 detenuti all'interno di moltissime carceri d'Italia e i dati emersi sono che il 73% ha assistito a maltrattamenti e uccisioni di animali da minorenne. Il 61% ha maltrattato e ucciso animali da minorenne. L'89% ha assistito e o maltrattato e o ucciso animali da minorenne. Il 62% dei detenuti che ha maltrattato e ucciso animali da minorenne ha piccato incendi, poi lo vedremo, qua si tratta di un escalation, poi ci arriviamo. L'età media in cui si inizia ad incrudelire su animali, e questo è un dato molto importante, è tra i 4 e i 5 anni di vita. In ultimo il 64% dei detenuti ha maltrattato e ucciso animali da adulto, di cui il 96% aveva già maltrattato e ucciso animali da minorenne. Il 96%, questi sono dati davvero sconcertanti. Questo alle mie spalle è invece uno studio, sono i risultati statistici di complessivamente tutti i casi link che noi abbiamo raccolto, quindi non solo per quanto riguarda le carceri in tutta Italia. E vi ricordo che la raccolta dati è sempre, sempre, sempre quotidianamente portata avanti. Qua può essere importante dire che gli abusatori sono risultati maschi nel 96% dei casi, effettivamente, le vittime sono risultate per il 56% donne, minori 28%, 3% gli anziani, uomini 5% e che nel 65% dei casi la vittima umana ha evitato o rallentato l'allontanamento del partner violento per paura di quello che sarebbe potuto succedere ai propri animali. Quindi tutti i dati scientifici raccolti da noi in Italia, raccolti a livello internazionale, ci dicono che maltrattare e uccidere animali è sintomo di una situazione esistenziale patogena. Specialmente se condotti nell'infanzia e o nell'adolescenza indicano una situazione familiare o ambientale caratterizzata da abuso fisico, psicologico, sessuale e ancora da incuria e da discuria, quindi da cure parentali negligenti e trascuratezza a cure parentali del tutto distorte. E questo è molto molto importante da tenere ben presente. Io adesso vi leggo questa breve testimonianza che spiega questa dinamica di vittima e carnefice in maniera molto 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 buona. Mi vergogno di dirlo. Mi ricordo di aver portato una volta questo cane nel corridoio e ricordo di aver chiuso tutte le porte così che non potesse scappare e di aver preso una cintura e di averlo frustato. Semplicemente frustato e di aver provato piacere nel sentirlo piangere. Non mi sono mai perdonata per questo ma so anche che ho dovuto farlo per sopravvivere. Quindi quando c'è l'identificazione vittima carnefice, quando chi agisce maltrattamenti e uccisioni sono segnali che ci devono far capire che il soggetto stesso potrebbe a sua volta nel caso di un minore o nel caso di un adulto quindi aver subito violenze di questo genere. E ancora continua. Ho dovuto mettere in atto la mia situazione psicologica. Anche mio fratello era molto crudele. Era solito gettare del pane dalla finestra per attirare gli uccelli e poi li uccideva. Proprio come il nostro padre che era solito provvedere a noi per poi intrappolarci. Questo mi sembra che spieghi veramente molto bene la dinamica che io ho espresso prima. Ancora le autorità americane che già da tempo hanno task force, hanno gruppi operativi che si occupano non solo che studiano il fenomeno ma che lo combattono in maniera pratica. Quindi autorità americana che dice l'abuso di animali da parte di un membro della famiglia sia esso genitore o figlio è spesso il segnale che si sta verificando un abuso su un bambino. O ancora diventare un torturatore può alleviare i sentimenti di impotenza e vergogna che un bambino sperimenta quando è la vittima. Quindi individui che vivono in queste condizioni spesso vivono in condizioni familiari in cui lo stile genitoriale è uno stile fortemente predatorio e all'interno di un clima di sottomissione e di paura. E quello che loro sentono di dover fare per propria sopravvivenza è proprio agire. I comportamenti che a loro volta sono stati agiti sull'individuo. Questa è la dinamica spiegata benissimo dalla testimonianza di prima. Un'altra cosa che la scienza evidenzia in maniera molto 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 forte e questo lo sottolineo davvero è il maltrattamento e l'uccisione di animali deve essere sempre e dico sempre 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 visto come segnale e indicatore predittivo di potenziali contemporanei o futuri altri comportamenti devianti antisociali e criminali. Il comportamento per sua natura fisiologica per sua natura intrinseca cambia nel tempo. Questa cosa è una cosa che ci dà una bella notizia come anche una brutta notizia. Il fatto di cambiare nel tempo ci dà la bella notizia di capire che il comportamento se riconosciuto immediatamente e trattato adeguatamente naturalmente con in maniera terapeutica e mirata quindi con dei metodi socioeducativi con in maniera psichiatrica può essere fermato quindi il comportamento prima viene controllato poi il comportamento regredisce il comportamento si estingue infine viene reindirizzato verso un comportamento positivo. Indicatore predittivo di potenziali contemporanei o futuri altri comportamenti devianti antisociali o criminali. Io adesso per spiegarvi questo perdonatemi l'altra faccia della medaglia l'altra faccia della medaglia è che se da una parte ci dà il vantaggio di poter intervenire immediatamente dall'altra parte abbiamo la brutta notizia di se la risposta ambientale non è una risposta adeguata. Io adesso vi spiegherò questa cosa con un esempio con un caso che Link Italia ha vissuto nel 2009. Nel 2009 la presidentessa Francesca viene contattata da un insegnante, un insegnante che lavora in un complesso scolastico di scuola elementare e scuola media nella provincia di Modena in una zona di campagna. Lei decide di contattare Francesca perché erano avvenuti due gravissimi episodi all'interno della scuola. I ragazzi in questione erano due gruppi, uno formato dai 9 e 10 anni e l'altro gruppo di ragazzini tra i 12 e i 13 anni e altro dato sono state rilevate delle presenze trasversali all'interno dei due gruppi quindi chi aveva assistito agito il maltrattamento nel primo gruppo l'aveva fatto anche nel secondo. Questi due gruppi di ragazzi decidono di prendere un gatto e ucciderlo sbattendolo contro il muro e successivamente l'altro gruppo di ragazzi decide di rubare una gallina chiuderla in una scatola di cartone e darle fuoco nel cortile della scuola. L'insegnante che non ha assistito in prima persona quanto accaduto è venuta a conoscenza di questi fatti, di questi gravissimi fatti decide di andare dal preside e di informare tutte le insegnanti e di andare dal preside e dalla vicepreside. Loro purtroppo come risposta ambientale danno una frase di questo tipo, beh questa è una ragazzata, non c'è da preoccuparsi, questa è solo una ragazzata. Lei sconvolta e assolutamente da sola a portare avanti questa causa decide di fare, è riuscita a fare la lista e l'elenco di tutti i nomi di questi ragazzi e decide di recarsi dalle forze dell'ordine dando quindi la lista e chiedendo alle forze dell'ordine di tenere d'occhio questi ragazzini. Nel frattempo tramite alcuni passaparola perché all'interno della scuola era già attivo un progetto di sensibilizzazione per genitori e insegnanti, lei è riuscita a contattare Francesca quindi spiegando tutto quanto. Francesca decide di prendere appuntamento con il preside della scuola e inaspettatamente dopo neanche un quarto d'ora di colloquio con il preside esce con già in mano un protocollo d'intesa. Qui apro e chiudo parentesi perché i protocolli d'intesa è un altro lavoro sul quale noi crediamo moltissimo e che stiamo portando avanti molto 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 bene. Il protocollo d'intesa altro non è che uno strumento potentissimo che rende le consapevolezze teoriche in pratiche operative. Quindi tra l'associazione, tra l'ente, tra in questo caso la scuola, si firma questo protocollo d'intesa dove da parte della scuola c'era l'impegno di aderire alla raccolta dati che noi stavamo portando avanti e da parte nostra c'era l'impegno di formare naturalmente in maniera gratuita insegnanti e genitori. Questo accade nel 2009. Noi, badate bene, siamo riusciti a fare un corso di formazione solo nel 2012 perché la scuola continuamente tirava fuori delle scuse, non era mai pronta, c'era sempre qualcosa che non andava. Poi un giorno però succede che questi ragazzi non si sono fermati nell'agire questi due comportamenti che vi ho appena menzionato, anzi hanno deciso di rubare altre galline e hanno deciso di andare sopra ad un cavalcavia e di lanciare le galline contro le auto come se fossero dei sassi con l'intento e con la volontà di scatenare un incidente e quindi potenzialmente di farci saltare fuori anche un morto. Questa è l'escalation che accade. A questo punto noi non abbiamo più trovato la stessa risposta ambientale. Questo perché? Perché non era più solo di dominio della scuola ma era una cosa che ha coinvolto tutta la città. Detto questo, la scuola comunque decide, in quel momento non era ancora stato deciso il modo e il tempo per fare questo corso e questo evento di sensibilizzazione e Francesca decide di contattare direttamente l'assessore in comune. Questa donna in maniera molto gentile, molto disponibile e assolutamente sconcertata da tutto, scusate prima mi sono dimenticata di dire che una delle risposte ambientali che questa insegnante ha trovato non è solo stato è una ragazzata, addirittura lei è stata richiamata dal preside perché i genitori si erano lamentati dicendo che questa insegnante infamava i loro figli. Quindi la risposta ambientale che lei ha trovato è stata questa e soprattutto che i ragazzini hanno trovato è stata questa. Si riesce attraverso l'assessore a organizzare qualche ora di corso perché comune e scuola avevano in progetto un corso di sensibilizzazione contro l'abuso di sostanze stupefacenti rivolto ai genitori e agli insegnanti. Quindi ci inserisce bypassando quindi la scuola che non ci dava ascolto non ci dava risposta e noi riusciamo a fare questo corso di formazione. Il giorno dopo ci contatta la vicepreside che dice di sentirsi fortemente in colpa e ci chiede scusa per non avere capito prima la gravità di questi comportamenti e per non aver fin da subito fatto qualcosa per organizzare corsi e per organizzare giornate di sensibilizzazione. Noi riusciamo a fare questo corso, la cosa importante di questo racconto è che come vi dicevo prima bella notizia e brutta notizia, qua in realtà si tratta di una brutta notizia perché qual è stata la risposta ambientale che abbiamo trovato, che i ragazzini hanno trovato, qual è stato l'insegnamento che è stato dato a questi ragazzini, anche la negazione ed il silenzio sono delle risposte ben precise. Quindi quando ci sono comportamenti di questo genere bisogna tenere presente che per l'animale il comportamento, l'atto in sé, in questo caso è mi tirano contro il muro. Per chi agisce il maltrattamento in realtà non è il focus, non è solo l'atto in sé, ma è l'atto congiuntamente alla qualità della risposta ambientale. Quindi io vi ho raccontato questo esempio per poi passare all'escalation che noi vediamo tante volte associata a comportamenti di questo genere e per andare a dire come veramente è un indicatore predittivo e deve essere uno segnale predittivo di gravi comportamenti devianti antisociali e criminali e vediamo la distruzione di cose come il vandalismo e come la piromania, vediamo aggressioni, quindi deliberata crudeltà fisica e o psicologica sulle persone, furti caratterizzati dalla presenza di una vittima, vi ricordate quanto appena detto, quindi loro rubano delle galline e l'intento di buttarle dal cavalcavia era proprio l'intento di far succedere un incidente, far scapparci anche il morto e inoltre rapimento, violenza sessuale e assalto, con particolare riferimento al fenomeno degli spree killer in effetti e l'omicidio per quanto riguarda il fenomeno dei serial killer. Margaret Mead è un'antropologa statunitense che in questa frase racchiude ciò che io ho appena raccontato, il peggior pericolo per un bambino è torturare o uccidere un animale e farla franca. Qui ancora sono altre autorità americane che ci parlano di questo, c'è un filo conduttore in tutte le sparatorie degli ultimi anni, mi riferisco ad un soggetto con sintomi come aggressione verso i suoi pari, interessi incendiari, abusi su animali, interessi incendiari, prima abbiamo letto piromania, vandalismo, abusi su animali, isolamento sociale e molti altri segnali di pericolo che le scuole avevano ignorato, che è esattamente quello che è successo nell'esempio che noi tendiamo a riportare sempre perché spiega perfettamente che cos'è il link e come questo fenomeno esista in realtà sia alla portata di tutti e sotto gli occhi di tutti. Col tempo come sto andando? Ok, allora questa la salto. Adesso io vi leggo molto molto brevemente questi due articoli che non sono degli articoli, cioè se noi finora abbiamo parlato di articoli scientifici e di dati scientifici, questi invece sono due articoli che fanno riferimento a due giornali per capire come non ci sia davvero assolutamente niente in realtà di più facile interpretazione quando si tratta del link. Quando si tratta del link di difficile interpretazione non c'è assolutamente niente. Gatti uccisi e appesi alle porte di un campo di calcetto. Non è un'intimidazione ma un gesto macabro che si inserisce nell'atteggiamento vandalistico che purtroppo molti giovani continuano ad avere. Una città dove da diverso tempo si verificano ogni notte episodi spiacevoli e di difficile interpretazione. È stato scoperto ieri mattina nelle vicinanze degli uffici Enel c'è un campetto di calcio in terra battuta utilizzato dai ragazzi del quartiere. Il personale dell'azienda elettrica si è accorto che sulle porte del campo di calcio c'era appeso qualcosa. Quando si sono avvicinati hanno visto che si trattava di gatti uccisi da qualche altra parte e poi trascinati in quell'area come dimostrano i segni di sangue lasciati sulla terra. Le carcasse poi sono state portate via da questi operatori. Qua abbiamo parlato come dicevo prima vado a concludere di dati scientifici, dati statisticamente rilevanti. Ancora queste autorità. Certo l'abbiamo capito chi picchia i propri figli picchia anche i propri cani. Chi picchia i propri cani picchia anche i propri figli. È tutto collegato. Le scuole, i genitori, la comunità e le corti di giustizia che reputano gli abusi sugli animali un crimine minore non fanno altro che ignorare una bomba ad orologeria. Questo nell'ottica dell'escalation di cui abbiamo parlato prima. Qua ci sono qualche frase che leggo sempre molto volentieri. L'uomo che uccide un animale oggi è l'uomo che domani ucciderà la gente che lo disturberà e questo è da Jan Fossey. Qui invece si tratta di consapevolezze che c'erano da Pitagora a Aristotele dove non c'erano dati scientifici che lo dimostravano. Quindi qua si tratta di consapevolezze intrinseche che noi abbiamo. L'uomo non troverà pace con i suoi simili finché sarà crudele con gli animali. Pitagora. Altro. Platone. Sono convinto che la guerra, l'ingiustizia e l'inganno ebbero inizio con l'uccisione di animali. L'intelligenza è negata agli animali soltanto da coloro che ne posseggono assai poca. Chi è crudele con gli animali non può essere buono con gli uomini. L'uomo deve mostrare bontà di cuore verso gli animali perché chi usa essere crudele verso di essi è altrettanto crudele e insensibile verso gli uomini. Con questa concludo. Senza la base scordatevi le altezze e vi ringrazio tanto per l'attenzione. Grazie. Salve a tutti. Innanzitutto volevo fare i miei complimenti ad Alice per aver relazionato una tesi così completa, a dir poco accademica e mi è capitato poche volte nella mia vita di imbattermi in, diciamo, tesi così, diciamo degne di nota. Ecco, grazie Alice e grazie a Link Italia per questo magnifico lavoro pieno di dati, molto importanti. Niente, io mi presento, non so se molti di voi mi conoscono, molti no, comunque io sono Davide Acito, sono un attivista, ho fondato l'action project Animal, attivisti nel mondo. Ci imbattiamo appunto in crimini verso gli animali e la storia di cui vi parlerò, che esporrò oggi, è proprio l'emblema del crimine, no? E parlo del festival di Yulin. Il festival di Yulin è una città in Cina, nel sud della Cina, nella regione del Guangxi, dove ogni anno accade questo festival, diciamo, il Yulin Dog Meat Trade. Diciamo che è una festa nata per il sostizio d'estate, no? Per l'arrivo delle temperature calde, è proprio un inno alla giornata più lunga dell'anno. Dunque nasce come una festa genuina e nasce, diciamo, nel... fin dalla notte dei tempi, si parla di centinaia di anni fa. Hanno introdotto il cane da qualche anno, circa dal 2009. Diciamo una cosa che comunque ha turbato tutto il mondo, ha tirato attivisti veramente da qualsiasi parte del mondo e anche la mia attenzione. Capita che una mattina di quattro anni fa, cinque anni fa, leggo un articolo di giornale in un mio viaggio in Svizzera e su un quotidiano che trovi così gratis. E praticamente leggo del festival di Yulin, dove ogni anno venivano uccisi questi cani. C'era quest'attivista che comunque si occupava del salvataggio dei cani, no? E allora lì ho deciso di attivarmi da subito. Va bene, fatto sta per far la corta, prendo il primo aereo e parto, mi ricapito subito in Cina, senza conoscere nessuno, senza sapere dove fosse questo festival in realtà. Comunque lì ho avuto la fortuna di trovare degli attivisti e di collaborare subito con loro e di scoprire realmente cosa fosse questo festival, perché la realtà in cui mi sono imbattuto mi è risultata sin da subito molto diversa da quella che io immaginavo. Era una realtà molto violenta e anche molto pericolosa per me, perché Yulin è molto di più di quello che noi immaginiamo, è una realtà molto crudele, è un meccanismo assai completo. Si tratta del, in prima persona, il governo che è colluso con questo festival, che sta dicendo che è un piccolo fenomeno locale, però qui invece si parla veramente di un grande fenomeno, dove la Cina è un popolo molto sicuro di sé, che non vorrà rinunciare a questo, non solo al festival, perché io voglio sottolineare come sempre qualcosa. Io mi sono imbattuto in Yulin, quello è stato il mio punto d'inizio. Oggi noi abbiamo un centro, adesso, in questo momento, mentre noi ne stiamo parlando, è nata un gruppo, cioè è nata proprio una vera e propria operazione, stiamo già traendo in salvo i primi cani e ci sono degli attivisti che stanno lavorando per noi e hanno messo in pericolo la loro vita, perché entrare nelle slotter house non acquistando i cani, come facevamo prima, perché sì, è vero, si salvavano i cani, ma cosa comportava l'altra faccia della medaglia? Si andava ad alimentare quello che era il mercato, quello che era un festival che noi volevamo chiudere e da lì ho anche capito che invece di cercare, come si dice, di portare a termine questo festival, dove non saremo di certo noi i nostri interventi, sì, sicuramente serviranno a qualcosa, ma in tutta onestà le pressioni esterne o la pressione mediatica serve fino a un certo punto, perché quando diciamo tutta l'intera comunità mondiale incomincia a parlarne e a fare delle pressioni, loro si chiudono a riccio, dunque può essere un'arma a doppio taglio, comunque bene che se ne parli per arrivare a una conclusione. La vera chiave di successo sta nella comunità locale, in un cambiamento interno che secondo me, secondo i nostri calcoli e statistiche, noi nel giro di 20 anni riusciremo a dire, il dog meat trading in generale, ma io sto parlando del Bucknell che dura un mese in Corea, che inizierà subito dopo Yulin e che pochi ne stanno parlando, del Vietnam, in Corea il piatto nazionale è la carne di cane, dunque in zuppa, non so come lo fanno, il problema non è Yulin, tutti mi chiedono, o molti si stanno focalizzando su quello che è Yulin Dog Meat Festival, ma non sul Dog Meat Trade, che è un fenomeno in tutta l'Asia, che poi non sarebbe il Dog Meat Trade, ma sarebbe il Dog Cat Meat Trade, ci sono anche gatti, ma questa è una piccola parte di quello che passano poi tutti gli animali in questa zona di compasso che può essere l'Asia. Ora, il punto, come si dice, chi non ha peccato scaglie la prima pietra? Noi non possiamo fare, diciamo, appello alla Repubblica Popolare Cinese, o ci sono pressioni da parte degli americani, hanno messo in atto questa legge 401 che parla proprio del, diciamo, del mattrattamento, di quello che è l'uccisione dei cani e dei gatti, ma di tutti gli animali in Asia, perché è ben difficile intervenire in un posto dove non ci sono le leggi sugli animali, è la vera e piena lotta del mulino a vento. Ora, io voglio solo farvi vedere un portato, eviterò di farvi vedere video croenti oppure immagini di foto dove ci sono cani e gatti uccisi nel peggior dei modi. Però voglio soltanto rendervi, diciamo, mostrarvi, mettervi sul piatto quella che è la realtà di una slaughterhouse. Vi spiego brevemente cos'è una slaughterhouse, dal termine inglese macello, ma questa che io vi fornirò è praticamente l'immagine dove noi interveniamo. Praticamente questi cani vengono rubati, narcotizzati, sono cani che vivevano nei villaggi, cani di famiglia che hanno anche i collari e anche il chip. Sono cani che fino a ieri avevano una vita normale e poi vengono narcotizzati con delle balestre dove ci sono dei narcotici a base di oppiacei e alla fine questi cani si svegliano in gabbia, in un sacco, vengono trasportati all'interno di queste slaughterhouse chiuse in gabbie e poi da lì inizia il loro viaggio di non ritorno per il Dog Meat Festival dove vengono uccisi nel peggiore dei modi. Ora voglio, prima voglio congiungermi un attimo con un discorso che ha fatto Alice dove si parlava appunto di crimini contro gli animali, dove si parlava proprio del fatto di ragazzi, persone, individui che fanno del male agli animali proprio con l'intento di creare dolore. Yulin, io sono qui a parlare di Yulin oggi e a congiungermi con, diciamo, in questa conferenza, in questo meeting, in questo dibattito che parla proprio di questo, ma Yulin non è soltanto il fatto che questi animali vengono mangiati perché comunque allora dovremmo essere in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi macello. Il punto che gli animali devono morire nell'estrema sofferenza. Questo perché la carne, per questioni di credenza spirituale o anche di medicina tradizionale cinese, l'animale deve morire nel peggiore dei modi. Dunque gli animali vengono bolliti vivi, gli animali vengono scuoiati vivi, i cani gli tagliano le zampe per servire la zuppa di zampe di cane, ma poi vengono rimessi in gabbia. Dunque quando gli viene ordinato un piatto, gli tagliano la zampe, i cani rientrano in gabbia e poi vengono uccisi ancora dopo. Dunque più soffre l'animale, più buona e gustosa sarà la sua carne e chi mangerà quella carne ne trae un vantaggio spirituale, un vantaggio anche medico basato su delle tesi che non hanno alcun valore. Dunque questa carne, l'uomo che mangerà questa carne, di questo cane ucciso con percorsi o bollito, pieno di ormoni, sarà un uomo molto più virile. Dunque anche a livello sessuale, è una questione di credenze. Oppure la cosa che mi ha sconvolto di più, è bene sì che un cane venga rubato, perché l'uomo che mangerà quella carne sarà un uomo fortunato. Dunque ora, per spiegarvi brevemente, se è un periodo fatto di, fatemi passare il termine, di sfighe, o che qualcuno è stato lasciato dal partner, o che ha perso il lavoro, insomma un periodo che gli va male, basta recarsi a Yulin e mangiare quella carne che poi si sistemerà tutto nella vita, perché questi animali sono rubati. Il cane, partiamo che è un animale felice, dunque questo viene riconosciuto, che loro sono pieno amore. E questo cane, se viene ucciso, se è un cane che fino all'altro giorno dormiva su un divano, dunque un cane rubato, è doppiamente più felice, diciamo, l'uomo che mangerà questo cane sarà ancora maggiore e più fortunato, avrà dei vantaggi maggiori. Dunque, è tutta una questione di credenza, è un festival basato su una credenza con tesi fondate sul niente, e dunque a discapito poi non solo della morte, ma diciamo una morte senza dignità, no? E noi ci stiamo battendo per questo. Quest'anno interverremo all'interno delle slaughterhouse, è già in atto, come vi dicevo, un'investigazione, sono stati tirati in salvo i primi cani. Io tra qualche giorno sarò in Cina, sarò a Yulin, ci sposteremo in due o tre posti della Cina, per poi portare questi cani in un rifugio che abbiamo costruito, in due mesi di tempo abbiamo realizzato questa Island Dog Village, che praticamente è un nuovo progetto dove all'interno del nostro centro noi abbiamo deciso di non usare le sbarre o i box, restrizioni, diciamo per dare il massimo al cane, ma io parlo dello stato psicofisico del cane, ma questo è un esperimento pilota, ci saranno degli studi, però poi verrà messo sul piatto a tutti come progetto pilota, dunque verrà portato anche qui in Italia, ma questo perché? Perché noi vogliamo dare realmente, diciamo, una paridignità, il diritto della stessa dignità umana di vita al cane o al gatto o a qualsiasi animale. Dunque, è vero sì, ci sono molti rifugi, ci sono molti centri, per me la parola canile può essere abolita nell'immediatezza. Il punto è questo, questi cani, quando noi risolviamo il problema randagismo, sbattendo dentro dei cani, dentro dei rifugi, che poi a volte risultano canili lager, perché poi ci sono gente di male affare che fa di tutto ciò un business e dunque sono coinvolte anche le istituzioni, dunque è un click che dobbiamo fare proprio con i vertici. Noi cambiamo quando tutti cambiano, i vertici sono uno specchio di come siamo noi, la politica, noi lo scegliamo, però dobbiamo proporre che c'è un'alternativa. Noi l'abbiamo pensato e dunque abbiamo pensato che anche un cane soffre le temperature calde, ha il diritto a un'aria condizionata o a un riferico d'inverno, no? È quello che noi stiamo dando. Abbiamo pensato che un cane come un gatto risultano comunque daltonici, dunque per questo abbiamo pitturato le pareti verdi, perché loro leggeranno queste pareti, questo colore come un azzurro e andrà a curare lo stress e l'ansia, dunque tutto studiato per lo stato psicofisico del cane e per il suo benessere. Abbiamo pensato che questi cani possano stare tutti insieme in un asilo, come un asilo per bambini. Abbiamo pensato di fare dei disegni, dei murales nel nostro centro per dare un'energia diversa a quella che si vede, perché da quello che ho capito basta che bisogna avere quattro pareti, un piccolo spazio e tre metri per ogni cane, li chiudiamo dentro fino a una presunta futura adozione. Dunque, quando questi cani non verranno mai adottati, rimarranno diciamo in carcere a vita, ma senza nessuna pena. Partiamo dal fatto che un uomo per avere le sbarre deve commettere un reato. Quello che io mi chiedo, dunque noi siamo coscienti di questo? Che anche nel bene, quando mandiamo un cane in canile, lo togliamo dalla strada, stiamo facendo peggio o stiamo facendo meglio? Chiudere dentro le sbarre un cane? Ma perché? L'uomo per andare dietro le sbarre deve commettere un reato e oggi qua in Italia mi sa che la devi fare veramente bella grossa per andare a finire dietro le sbarre, è un cane lo mettiamo dietro le sbarre gratuitamente. Allora io voglio che noi, cioè la collettività ci deve pensare su questo, questo è il punto. Allora quando noi incominciamo a dare realmente valore a queste cose, diciamo c'è un'acquisizione del diritto, della dignità alla vita maggiore del cane, no? Andiamo a risvegliare le coscienze perché io credo che se in ognuno di noi c'è una piccola riflessione di queste benedette sbarre nei centri dei cani, cioè veramente si cerca di riflettere e di creare qualcosa, no? Ecco questo, io sono diciamo sono più portato prima a creare certe cose, io dico sempre prima si fanno e poi si dicono e a breve noi renderemo diciamo pubblica questa nostra operazione e anche il nostro centro e sui nostri canali social, quest'anno ci sarà anche l'intervento, non posso dire altro ma ci sarà un intervento di una tv, dunque ci sarà un documentario che mostrerà quello che è Dogmeat Trade, quello che è il nostro lavoro in Cina e diciamo la pericolosità di tutto ciò. Ora per non dilungarmi troppo vi mostro quello che è la realtà delle Slotter House. Allora, l'operazione è stata fatta l'anno scorso, è stata fatta da un padre e purtroppo mi stessi a studiare in questa nuova, l'encio è un progetto che è con la presa delle distanze e dopo tre anni di interventi, questo sarebbe il terzo anno, noi siamo arrivati a avere un centro nostro autonomo e anche uno staff che lavorano per noi vicini. Abbiamo avuto, abbiamo un'altra collaborazione con un'organizzazione tedesca, però migliori molto di tutto quello che si pensa, non parlo di solo dei butcher, dei dog terror, ma parlo anche di tutte le organizzazioni e le persone che sono più volte per combattere questo, diciamo, questo virus. dunque noi abbiamo scelto di intervenire in modo autonomo, associandoci da quelli che sono i nostri ex partner e abbiamo creato questo nuovo centro che si passa da zero. Questa, sì, qui c'è l'audio, che sicuramente non si sente, però queste immagini sono le immagini di una slaughterhouse dove noi siamo interventi l'anno scorso, in questo centro noi abbiamo preso circa 209 cani, i cani sono malati di cibo, questo è molto simile al nostro tipo, ma non è il tipo, il tipo è stato preso in qualche slaughterhouse, questi cani sono morti subito dopo, non tanto per cento di cani sono stati persi nel giro di un mese, questo perché in questo posto, come tutte le slaughterhouse, i cani sono, ecco, sono tutti malati di cibo o barbomirosi, diciamo la situazione è proprio lo stato, diciamo, di distente, che hanno queste malattie. All'interno ci sono dei bigattini ovunque, dunque questa carne va al mercato e quello che noi abbiamo portato, ci stiamo occupando di fare un intervento di lobbying politico, anche se molto difficile, però a novembre mi sono recato in Cina e dunque ho fatto il primo appello alla Repubblica Popolare Cinese, c'è una legge dell'articolo 123 del comma 4 che dice che non si possono trafficare e mangiare cani che non hanno questo cane al collare, dunque sono quei cani che vengono rubati, morto, che non si possono mangiare e trasportare i cani che non hanno nessun attestato di un documento di garanzia di buona salute del cane. Ecco, invece questi cani sono rubati, vengono portati lì dentro e poi vengono mangiati al mercato. Le persone che hanno un piatto non vedono neanche questi cani, noi li abbiamo portati, ce li siamo portati subito, ma la verità è che noi ci stavamo portando dei fantasmi perché quei cani hanno avuto, ecco, questo si presume che è il nostro Pippo. Pippo è qui, eccolo lì. Il punto è questo, questi cani sono gravemente malati, hanno distemper ma sono malattie. La regione del Guangxi in Cina è la regione con il tasso più alto di morti per rabbia o parvovirosi. Anche la mia, diciamo, inconsciamente, io non sapevo dove mi stavo imbattendo, sono entrato in quella slaughterhouse sprovvisto, avevo solo dei guanti. Diciamo che io dovevo essere all'interno di quella slaughterhouse come, potete immaginare, un astronauta, ecco, perché veramente era pieno di malattie e i cani erano, ecco, questo cane con queste respirazioni è il primo sintomo di cimurro ormai ai polmoni e i cani sono tutti in queste condizioni. Lo stadio successivo è morte per celebrare, ecco, e diciamo tutti i cani sono coinvolti. Nel viaggio poi un cane sano vicino a un cane malato di distemper viene subito contagiato. Dunque basta anche solo un cane al mercato e anche tutti gli altri cani vengono contagiati. Le persone stanno mangiando questa carne. Allora, il punto è quello che io dico, noi oltre a salvare questi cani, che abbiamo fatto ben poco comunque l'anno scorso, perché gli abbiamo evitato una morte, diciamo in pentola, una morte per essere cucinati vivi, bolliti vivi, però diciamo c'è stata una seconda morte. Noi siamo riusciti a curare 11 cani e le spese sono state veramente assurde. Di cui di 11 cani, nonostante avendo le migliori cure possibili, perché abbiamo cambiato due cliniche, tra cui poi abbiamo scelto, optato per una clinica americana che ci è costato un occhio, e siamo riusciti a salvarne soltanto nove, tra cui è qui con me Pippo. Il punto è questo, che salvare tutti questi cani è veramente impossibile, anche perché non c'è lo spazio. E le cliniche, se i cani hanno la provenienza dal festival di Ulin, non ti accettano i cani perché possono avere dei problemi con il governo. Dunque il governo è il primo a non volere che si interagisce con tutto ciò che è il festival. Se vuoi ci possono essere anche delle altre foto, oppure c'è un secondo video dove c'è l'operazione. Il punto è questo, io l'anno scorso sono stato bloccato dalla polizia, siamo stati pedinati, sembra veramente di... non è così facile, sembra veramente di essere in un film di 007, perché mi tocca cambiare numero subito. Quest'anno non abbiamo potuto dare molte informazioni su quella che sarà la nostra partenza e su come si sta muovendo il nostro gruppo in Cina, perché siamo seguiti anche dalla security police Borromeo cinese. L'anno scorso ci hanno catturato, siamo stati presi io, un altro ragazzo italiano e due giapponesi, sono venuti a prenderci nel nostro albergo, ci hanno tenuto lì, ci hanno interrogato e praticamente prima che diventasse un caso politico loro ci hanno lasciato nell'immediatezza nel momento che doveva esserci un intervento della nostra ambasciata italiana. Dunque dopo ci hanno prima fatto un video dove noi dovevamo attestare che non interagivamo con il festival, non dovevamo documentare, non dovevamo pubblicare tutto ciò che documentava il festival in Italia, ma neanche sul Facebook, avevo un'accusa di giornalismo non autorizzato, con visto turistico, ma io ero tutto tranne che un giornalista. E dunque quest'anno noi ci muoveremo diversamente, la nostra operazione sarà incentrata su quello che non è l'acquisto ai cani, perché come dicevo non è etico, tutto ciò è servito per capire come interagire, capire qual è il mercato, le persone che sono coinvolte, dove sono le slotter house, prendere contatti e quest'anno siamo pronti. Dunque sì, abbiamo deciso più o meno un numero di cani, questo per prestare maggior attenzione alle cure dei cani, anche perché il nostro centro è un centro degno di nota, dove è previsto tutto, come dicevo riscaldamento, dunque c'è una zona lavaggio, abbiamo costruito una casetta per il guardiano, perché vogliamo una persona che ci vive lì per i cani, abbiamo deciso di fare una cucina. Come dicevo, chi ha detto che i cani non gradiscono la temperatura, diciamo il fresco in estate, il caldo in inverno, oppure chi ha detto che i cani non apprezzano quando gli si cucina per loro, dunque una pietanza alternata dal lunedì, il martedì, il mercoledì, con un menù settimanale per il cane, perché purtroppo anche quando noi salviamo i cani, acquistiamo crocchette, 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 cibo per cani, e tutti i giorni della settimana. Dunque i nostri salvataggi servono, questo centro in Cina servirà più che altro, oltre a dare, diciamo, una seconda chance a questi cani, ma il nostro obiettivo è quello di sensibilizzare lì in loco sul posto. Dunque il fatto di fare attivismo in Cina è molto pericoloso. Io ho distrutto la mia vita, ho venduto la mia macchina, ma questo è il minimo, fare i conti con quelle che sono state le spese mediche. che quest'anno abbiamo avuto, diciamo, una grande mano da anche uno sponsor che si è offerto di aiutarci, Elisabetta Franchi, una famosa stilista che ha detto no alle pellicce e che va tutto il nostro ringraziamento. Grazie a lei noi siamo riusciti a costruire questo centro. Dunque anche ci sono le prime persone che iniziano a darci un aiuto concreto e noi riusciamo a fare molto di più. Ma questo non vuol dire che il nostro intervento deve essere ancora col Dogmeet Trade, perché Dogmeet Trade non finirà così, purtroppo. E diciamo, è una cosa che molti cani vengono uccisti nel peggior dei modi. Parlo della Corea, che nessuno ne sta parlando. Parlo del Vietnam. Purtroppo questa è una cosa mediatica, ci si è focalizzati soltanto su Yulin. Quello che ho scoperto che lottare contro questo festival, anche quello che riusciamo a fare con questi cani che non riusciamo a portare via, però io sono un uovo che si scaglia contro una montagna. La vera vittoria ce l'avremo quando tutta l'intera, diciamo, comunità mondiale avrà questo cambiamento che si spera nei prossimi vent'anni. Una cosa che ho riscontrato e che sono felice di dirvi è che dal primo anno, questo sarà il terzo anno, dal primo anno a oggi è cambiato veramente tanto in Cina. Dal primo anno dove ci fotografavano, dove ci seguivano e ci guardavano, ci deridevano mentre noi salvavamo questi cani come alieni, perché dicevano ma questi sono matti, arrivano dall'altra parte del mondo per prendere questi cani. Per loro era insignificante, non riuscivano a darsi una spiegazione ai nostri salvataggi, ma tutt'oggi invece si è visto dall'anno scorso il 619, il nome dell'operazione che ha visto salvare un camion di 1200 cani, dove nel giro di poche ore si sono riuniti 500 attivisti da tutta la Cina, è una cosa che mi ha stupito, che mi ha fatto capire che un cambiamento è in atto, perché 500 persone che si riuniscono in tempo zero, beh, ragazzi, cioè io ho una roba del genere, non l'ho vista in Italia, forse qualche anno a Green Hill, ma ci sono voluti veramente dei giorni per aggruppare tutti quegli attivisti. E dunque noi ci stiamo focalizzando su tutto quello che ci fa male, e giudichiamo la Cina, ma c'è una seconda parte di Cina, quella Cina che c'è vicino, quegli attivisti che oggi stanno rischiando la vita, e quella Cina che ci ha dato modo di costruire questo centro, perché questo centro comunque viene gestito da delle persone che ci hanno dato anche loro delle idee, sì, e sono quelle persone che porteranno il nostro progetto. Noi vogliamo intervenire da là portando delle scuole, sensibilizzando, perché i giovani, come ne parlavamo prima, come diceva l'Alice, si parte tutto dai giovani, sono i giovani che poi diventano dei futuri criminali, è tutto l'esempio che si ha diciamo in tenere età. Dunque noi vogliamo avere una collaborazione con delle scuole, portare queste scuole in questi, nel nostro centro, e far vedere che anche loro hanno una dignità, e dare quell'esempio, diciamo coltivare questo seme, Che frutterà qualcosa nel futuro. Questa è l'unica chiave di successo. Passo, però questo è tutto. Grazie. non so se qualcuno voleva fare qualche domanda, io forse ho tralasciato, magari dopo, ok, magari dopo, io forse ho tralasciato qualcosa, ero un po' sotto, diciamo, erano più le emozioni che parlavano, ok, passo la parola. Grazie. Buonasera, io sono Marco Verdone, sono un medico veterinario che per più di un paio di decenni ha lavorato in questa isola carcere che si chiama Gorgona, ed è l'isola più a nord dell'arcipelago toscano, di fronte a Livorno, e quindi cerchiamo ora di fare il link tra le cose che abbiamo sentito fino ad ora, no? Alice ci ha fatto un po' un'introduzione a questo collegamento, in realtà stavo pensando qual era il punto di contatto tra questa realtà per noi occidentali allucinante in Cina e quello che poi capita, che è capitato nella mia esperienza diretta in questa piccola isola carcere. In realtà ci sono dei punti in comune e il primo punto in comune sono le sbarre, le gabbie, e la detenzione, quindi parliamo di soggetti detenuti. Allora, questo luogo, questo carcere ha la caratteristica fondamentale di ospitare persone umane detenute le quali a loro volta si relazionano con altri soggetti non umani detenuti o come si dice allevati. Sia gli umani che gli animali in questo luogo nel corso degli anni hanno goduto di un altissimo grado di libertà perché sia nel primo caso che nell'altro si è ritenuto che di, come dire, sottolineare la qualità della vita di queste persone dando loro la maggiore libertà possibile. Dal punto di vista penitenziario Gorgone è una delle pochissime realtà in cui tutti gli ospiti reclusi possono lavorare, percepiscono uno stipendio seppur minimo e hanno dei grandi margini di movimento all'interno dell'isola il che ovviamente contrasta con quella che è la situazione detentiva nazionale tanto che noi siamo stati condannati dalla Corte Europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo per reato di tortura con la famosa sentenza Torreggiani del 2013 solo che l'Italia non prevedendo questo reato non ha pagato per questa condanna come dicono gli esperti del mondo penitenziario il carcere molto spesso è criminogeno cioè tu metti in prigione una persona che ha commesso un reato e lì dentro questa persona impara a commetterne altri quindi molte persone entrano per diciamo piccoli tra virgolette reati e imparano dentro quella che si chiama l'università del crimine ovviamente non è possibile uscire migliori come ci dice l'articolo 27 della nostra Costituzione dove dice che le pene devono tendere alla rieducazione del condannato per poterle restituire alla società cosiddetta civile rieducato e riabilitato ovviamente non è possibile ottenere questo quando vivi in una condizione di sovraffollamento quando vivi in una condizione di ozio e di assoluta mancanza di stimoli culturali affettivi relazionali e quando tra l'altro frequenti persone esperte che ti possono insegnare molte cose per intraprendere la via del crimine che ovviamente all'esterno del carcere è pronta a riassorbirti andando in competizione invece con il reinserimento socio-lavorativo che la società che il nostro Stato dovrebbe garantire a chi ha completato un percorso detentivo l'articolo 27 ci dice che la pena deve tendere a questo ma non è detto che tutte le pene debbano andare a finire nel carcere il carcere è una delle strade quando una persona ha subito una condanna non è la strada ma se la strada è quella del carcere sicuramente l'esperienza ci insegna che i carceri le carceri dovrebbero essere almeno simili a quelle come Gorgona dove c'è libertà c'è rapporto con gli elementi naturali c'è il lavoro si impara qualcosa si è a contatto col mondo esterno si è a contatto con gli elementi della natura all'interno di questa realtà c'è una cosa molto particolare perché queste persone sono a contatto con quelli che noi chiamiamo in modo del tutto arbitrario animali da reddito e quindi gli animali da allevamento quindi le mucche le pecore le capri i maiali come ben sapete che sono sempre stati presenti sull'isola per motivi produttivi quindi per produrre fondamentalmente cibo che però da un paio di decenni hanno permesso di attivare una riflessione etico-rieducativa sul loro ruolo in modo particolare io da medico veterinario che tra l'altro ad un certo punto della sua carriera per fortuna precoce precocemente ha conosciuto la medicina omeopatica e quindi ha ribaltato completamente i rapporti tra medico-paziente e i rapporti tra salute e malattia ho deciso di ampliare il mio campo di interesse e di pormi delle domande su quello che ogni medico deve domandarsi ovvero cosa devo realmente curare in ogni caso di malattia e quindi il mio interesse si è esteso dall'organo malato all'individuo malato alla relazione umano-animale a tutta la comunità dell'isola fino a quella che oggi chiamiamo la questione animale e che raggruppa tutte le nostre relazioni con gli animali non umani sia di tipo produttivo che non produttivo alimentare o non alimentare sia nei confronti degli animali domestici che selvatici nel giro di alcuni anni abbiamo incominciato a capire che almeno in un luogo in cui il fine istituzionale è quello di restituire persone migliori cioè di far uscire persone con una visione del mondo rinnovata e soprattutto rinnovata rispetto alle cause che hanno portato questa persona ad entrare in carcere ovvero le relazioni di potere con altri soggetti e quale soggetto migliore per ragionare su questi temi che il più debole per antonomasia il più politicamente svantaggiato che è l'animale non umano ok e Davide ci ha fatto vedere a quali condizioni di estrema inenarrabile condizione noi possiamo relegare gli animali non umani e quindi lo scopo del carcere non è quello di produrre cibo a buon mercato come accade in Gorgona ma è quello di produrre persone migliori e la presenza di tutte queste specie animali è stata ritenuta come una grande opportunità per riflettere su quale può essere una relazione co-evolutiva con esseri così diversi da noi che tradizionalmente come poi ci spiegherà meglio Anna Maria Manzoni sono utilizzati sfruttati e uccisi per produrre reddito quindi per produrre ricchezza economica attraverso prevalentemente la produzione di beni alimentari nel corso del tempo tutta questa riflessione è stata approfondita si è allargata ha coinvolto persone esperte abbiamo scritto una carta dei diritti degli animali dell'isola di Gorgona io ho rinunciato a mangiare i miei pazienti i loro derivati e che è stata un atto un non atto molto semplice perché è la cosa più semplice che si può fare quindi il non fare molto spesso è più potente ed è più semplice del fare e poi abbiamo incominciato per una serie di motivi a attribuire ad alcuni purtroppo aggiungo purtroppo alcuni soggetti animali uno status di animale rifugiato cioè di soggetto che veniva tutelato nella sua interezza al quale venivano garantita al quale veniva garantita una vita senza lo spettro del macello sottratto da circuiti produttivi e riconoscendogli il ruolo di cooperatore della rieducazione facendolo passare dallo status di portatore di un numero come accade per tutti gli animali di allevamento a quello di portatore di un nome in virtù di questo passaggio giuridico barra etico gli abbiamo salvato la vita primo Levi ci insegna tutto quello che accade o che è accaduto durante la tragedia della Shoah come la bestializzazione dei deportati abbia portato proprio nel percorso inverso e per arrivare anche un po' al tema di oggi dopo una serie di cose scritte raccontate testimoniate quest'anno siamo usciti con un libro che si chiama appunto Salvati con nome di cui io sono il co curatore ma Anna Maria Manzoni ed altre persone presenti sono altri coautori in cui abbiamo raccolto l'esperienza centrale di Gorgona che è stata assunta dall'università di Milano Bicocca in modo particolare dal dipartimento di giurisprudenza come modello di rieducazione non violenta nel panorama detentivo italiano quindi non siamo non sono non sono più io il veterinario dell'isola ho una serie di amici affezionati a questa realtà ma è l'istituzione scientifica universitaria che attesta la bontà del percorso e appunto il titolo è salvati con nome perché l'idea appunto di sottolineare questo passaggio che è molto importante culturale giuridico etico di superare il concetto di attribuzione di un numero quindi una categoria non individualizzante a quella di nome il nome ti rende titolare di diritti ti rende persona ti rende quello specifico individuo a cui riconosco appunto una sua personalità una sua titolarità e una sua individualità questo libro raccoglie non solo le esperienze di Gorgona chiedendo a persone esperte come Anna Maria ed altre persone giuristi criminologi direttori di carcere ci sono io come veterinario l'agronomo di Gorgona ma anche estendendola ad altre esperienze in carcere improntate ad una progettualità non violenta c'è l'esperienza appunto di Parmaetica nel carcere di Parma con un progetto su un corso di cucina cruelty free c'è l'esperienza di alcuni carceri della Lombardia c'è l'esperienza di un carcere della Sardegna noi riteniamo che questa storia debba arrivare a compimento perché in Gorgona è ancora presente un caseficio ancora presente un macello noi stiamo lavorando da molto tempo con alcune associazioni nazionali come appunto Essere Animali la LAV anche i POASI qui ci sono i rappresentanti di queste associazioni per riuscire a portare a termine quest'idea questo cambiamento fondamentale che almeno dentro un carcere non è possibile prevedere la presenza di un luogo di morte di macellazione quindi una rieducazione costituzionalmente orientata non può prevedere un luogo di macellazione almeno in un carcere questa cosa speriamo di vederla compiuta perché in realtà stiamo aspettando di chiudere il cerchio perché riteniamo che questa esperienza non solo valga a beneficio degli animali ospitati in Gorgona ma sia un grande precedente per far valere i principi portatori ed espressi anche in questo ambito cioè i principi del riconoscimento dei diritti dell'altro non umano di riconoscimento anche del diritto della persona reclusa a fare un percorso non violento perché in realtà uccidere un animale di cui ti sei preso cura fino a pochi istanti prima è un doppio fallimento è un fallimento del percorso di vita di quest'animale che nel pieno della sua energia vitale va a morire e dall'altra parte il fallimento di una relazione di amicizia creata stabilitasi tra due persone entrambe recluse dove il non umano ha consentito a questa persona di sopravvivere in un luogo difficile dove gli ha dato gli strumenti che gli hanno permesso di stabilire un rapporto di amicizia dove gli elementi costantemente presenti in un carcere che sono il giudizio l'osservazione il controllo sono completamente assenti un animale non ti chiederà mai il tuo passato non ti chiede la tua fedina non ti chiede non fa la spia non vuole sapere cosa hai fatto cosa pensi cosa farai ti restituisce quello che tu gli dai ti puoi confidare gli puoi esprimere affetto però è profondamente diciamo ingiusto nel senso più ampio puoi ucciderlo perché non serve a nessuno è di una crudeltà assoluta e quindi su questo principio fondamentale semplice che tutti capiscono anche i bambini noi cerchiamo di far girare questo progetto e fare in modo che questa sia speriamo a breve il primo luogo in cui un macello verrà chiuso per motivi etico-rieducativi sperando che sia il primo di una lunga serie perché riteniamo appunto per i motivi e anche per le frasi che Alice ci ha letto che non c'è futuro non c'è speranza senza prima aver risolto la nostra relazione con i non umani che sono nel sottoscala nei sotterrani della nostra piramide sociale io la finirei qui perché lascio la parola ad Anna Maria Manzoni e poi magari se ci sono domande cerchiamo di rispondere grazie allora grazie buonasera a tutti e grazie alle persone che mi hanno preceduto mi chiamo Anna Maria Manzoni sono psicologa mi occupo da alcuni anni di questioni animali e soprattutto della violenza sugli animali e mi sembra che il tema della violenza sia il tema principe che è stato declinato in modi diversi dalle persone che hanno gli amici che hanno parlato prima di me mi viene in mente per associazione anche se non era nella mia tabella di marcia mentale una cosa da aggiungere a quello che ha appena detto quando Marco ricorda che non è possibile chiedere a delle persone che si sono occupate di un animale e di affezionarsi adesso poi di ucciderlo mi viene in mente per associazione che questa era una delle cose che venivano fatte ci viene riferito come sorta di tirocinio alle SS per fare in modo che la pietà fosse spenta uno dei metodi che venivano usati era quello di far allevare un cucciolo di cane per 12 settimane a una persona che era in lista per entrare nelle SS e poi quando questo cucciolo aveva raggiunto le 12 settimane doveva essere ucciso doveva essere strangolato dalla stessa persona questa cosa aveva questa cosa terribile aveva lo scopo di spegnere la pietà ecco quindi quello che veniva fatto come tirocinio per diventare una persona insensibile alle esigenze degli altri viene chiesta a delle persone che dovrebbero essere in una situazione dove godere di rieducazione quindi questo già la dice lunga allora il tema della violenza è un tema enorme che certamente non posso affrontare in pochi minuti però volevo dare alcuni elementi alcune suggestioni partendo da una frase con cui uno studioso che si chiama Stephen Pinker che ha scritto un enorme libro che si intitola Il declino della violenza apre il suo questo mastodontico saggio lui dice questa cosa che se vogliamo capirci qualcosa se vogliamo trovare il bandolo della matassa su come la violenza nasce su come si sviluppa e su come se vogliamo contrastarla possiamo mettere in luce i modi per farlo dobbiamo studiarla in tutte le sue manifestazioni dalle dichiarazioni di guerra tra le nazioni alle scolacciate i bambini dice lui e questa affermazione secondo me è importantissima perché inquadra il tema della violenza nella sua incredibile vastità e ci invita a renderci conto di come tutte le forme di violenza siano interconnesse tra di loro anche quelle che apparentemente non hanno assolutamente niente da spartire l'una con l'altra che cosa hanno da spartire le scolacciate cosiddette educative i bambini con le dichiarazioni di guerra tra le nazioni apparentemente niente se ci si inoltre in questo discorso si vede invece come il link per l'appunto per usare il termine che ha ripetutamente usato Alice esista e come e proprio questo è il percorso da fare il tema della violenza dicevo è un tema assolutamente enorme che ha definito e ha costituito la musica di fondo e a volte non soltanto quella di fondo di tutta la storia dell'umanità ci sono degli studiosi che si sono presi la briga di fare una ricostruzione storica e hanno affermato che dall'origine dell'uomo da quando è possibile ristabilire il percorso della storia non si sono sommati più di 29 anni nel corso di millenni in cui non ci siano state delle guerre in corso quindi se è vero come è vero che la guerra è una delle maggiori manifestazioni di violenza in cui cadono tutti i freni morali tutti i freni inibitori questa è la storia dell'umanità quindi diciamo che non c'è tantissimo da stare allegri tanto è vero che si è sviluppata e si è codificata un'idea che negli anni 70 ha portato anche alla scrittura di un libro che si chiamava che si intitolava La scimmia assassina The Killer Ape un libro che ebbe un enorme successo e che era la scimmia assassina era l'uomo ovviamente cosa diceva cosa c'era alla base di questo grande studio la convinzione che siamo di fatti portati a esprimere a manifestare un'aggressività e una violenza talmente forti che tanto vale metterci una pietra sopra facciamoci una ragione e non pensiamoci più chiaramente messa in questi termini la situazione non è accettabile è pericolosissima e presumibilmente non vera tanto è vero che per contrastarla ci si sono messi gli scienziati che provenivano da varie discipline i quali alcuni anni più tardi hanno scritto quella che si chiama la carta di Siviglia in cui si faceva un'affermazione importantissima proprio per opporsi a quello che era stato detto fino a quel momento vale a dire che non esiste il gene della guerra e su questo non abbiamo difficoltà a crederci ma non esiste il gene dell'aggressività non esiste il gene della violenza l'aggressività la violenza la crudeltà sono delle manifestazioni che hanno un percorso di formazione a cui ciascuno di noi può essere o può non essere sottoposto che portano poi all'espressione di quei comportamenti violenti che molto spesso costituiscono appunto il nostro modo di comportarci questa carta di Siviglia e questa affermazione sono state poi ribadite da studi più recenti portati avanti tra l'altro dalla fondazione Veronesi e che sono stati sottoscritti anche da credo 21 premi Nobel questo per dire che le affermazioni che vengono fatte hanno un fondamento scientifico assolutamente non non controvertibile il fatto che l'aggressività la crudeltà la violenza siano frutto dell'educazione è una cosa importantissima che ci rimanda al senso della nostra responsabilità nel senso che se è attraverso l'educazione attraverso l'esempio attraverso la proposta di modelli che insegniamo a qualcun altro ad essere o non essere aggressivi vuol dire che ciascuno di noi ha enormi responsabilità in questo senso e non dobbiamo dimenticare che la specie umana tra tutte le specie esistenti è quella in cui i cuccioli i bambini passano un tempo che non è condiviso da nessun'altra specie insieme ai genitori i bambini gli adolescenti soprattutto nelle società occidentali convivono con gli adulti di riferimento con i genitori per 15 20 anni spesso anche molto di più quindi un tempo lunghissimo in cui i modelli proposti e in cui le convinzioni in cui il tipo di educazione ha tempo certamente di essere passato come messaggio e di diventare un elemento fondamentale quindi da una parte grossissimo senso di responsabilità dall'altra dobbiamo appunto dimenticare l'idea che l'aggressività la crueltà la violenza non possano essere delle manifestazioni che possono essere battute allora quando parliamo di tutti i legami che esistono fra tutte le forme di violenza si fa ancora oggi nonostante tutto molta fatica a includere nell'orizzonte complessivo anche gli animali non umani si cercano di collegare tutte le violenze le forme di violenza che vengono agite all'interno della specie umana ma molto spesso si lasciano fuori gli animali ci sono persone che sono considerate e si considerano delle bravissime scusate ma c'è una mosca amo gli animali ma devo un pochino liberarmene in questo momento dicevo che ci sono moltissime persone le quali si considerano e sono considerate ottime persone ma che limitano la loro bontà il loro rispetto soltanto ai loro cospesifici e lasciano totalmente da parte tutto il mondo degli altri animali dobbiamo finalmente deciderci a includerlo e a valutare nella violenza nella non violenza dei nostri atteggiamenti quello che facciamo o quello che non facciamo a tutte le altre specie che ci sia questa profonda questo profondo legame tra la violenza che viene fatta nei confronti del mondo animale e la violenza che invece è tipica della nostra specie all'interno della nostra specie certamente è un'idea che è stata dissotterrata negli ultimi tempi ma non è nata oggi è un'idea antica e sono stati i filosofi gli scrittori dell'antichità che vengono regolarmente citati a trovare a mettere in luce questo link e le loro affermazioni possono essere sintetizzate nella frase che dice che la violenza e la crudeltà nei confronti degli animali spengono la pietà e c'è da fare le grosse riflessioni rispetto a Yulin visto che abbiamo parlato di questo e a tutto il resto vengono spesso citati i filosofi gli scrittori vengono meno citati dei legislatori italiani che tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento Torreggiani e altri hanno messo in luce questo link sono stati spessissimo dimenticati e devo dire che rispetto a quello che loro hanno detto più di un secolo fa i politici dei giorni nostri dovrebbero veramente vergognarsi perché allora quindi 100 120 anni fa facevano delle affermazioni in cui si spingevano gli adulti a prendere atto dell'importanza dell'atteggiamento nei confronti degli animali per l'educazione dei bambini e venivano addirittura istituiti dei premi scolastici per gli insegnanti che si occupassero di diffondere un messaggio che fosse un messaggio di rispetto e di solidarietà nei confronti degli umani direi che la timidezza che oggi contraddistingue grandissima parte della classe politica è veramente esorbitante soprattutto se viene messo in confronto con esempi dimenticati ma per questo non meno veri quando si parla di violenza nei confronti degli animali c'è solo l'imbarazzo della scelta a che cosa vogliamo riferirci ci sono tantissimi studi e sono quelli a cui tra l'altro si è riferita tanto a Luice nel parlare che mettono in relazione degli atti che sono atti di crudeltà di maltrattamenti compiuti da singoli individui nei confronti degli animali rispetto ai quali ci sono tanti movimenti perché le leggi vengono piano piano messe a punto e determinati crimini non dico vengono ma diciamo potrebbero dovrebbero essere stigmatizzati pensiamo per esempio ai casi che periodicamente vengono portati alla ribalta della cronaca tutti quanti ricorderete il cane angelo di cui si è parlato tanto l'anno scorso un anno e mezzo fa quel cagnetto di Calabria che era stato torturato e ucciso da quattro ragazzotti annoiati e tra l'altro ci si era molto stupiti e scandalizzati perché la comunità di riferimento non aveva fatto un plissè davanti a questa cosa però ci sono state tante manifestazioni e si era cercato di ottenere anche una punizione che fosse non esemplare ma giusta di queste cose il problema secondo me è che se si stanno facendo dei passi avanti rispetto a questo tipo di interventi quello che troppo spesso viene totalmente ignorato parlando di questo link che lega tutte le forme di violenza è la violenza istituzionalizzata è la violenza sistemica noi conviviamo con una serie di forme in cui di situazioni di comportamenti in cui gli animali sono regolarmente sottoposti a crudeltà e a violenza in termini di legge conviviamo con una violenza che è sistemica che in altri paesi del mondo è vero che è molto più ampia di quanto non sia nel nostro paese ma ciò non toglie che anche da noi la strada sia molto lunga e sono tante le situazioni in cui gli animali sono sottoposti a crudeltà estrema a norma di legge senza che nessuno possa intervenire sono tutte le condizioni di allevamento sono le condizioni dei macelli è la caccia è la pesca sono le sagre che abusano degli animali in cui gli animali sono regolarmente sottoposti a forme di tortura perché ci si diverte facendo loro fare quello che per natura non potrebbero fare e questo viene ritenuto alla base di un divertimento collettivo ci sono gli zoo ci sono i circhi sono tutte situazioni in cui la violenza è istituzionalizzata è sistemica non ci si può opporre perché perché anzi sono fatte sono portate avanti a norma di legge persino le sagre hanno l'autorizzazione dei presidenti di regione quindi una volta che il presidente ha dato l'ok ha dato il suo benestare si va avanti e tenete presente che tra le sagre c'è per esempio quella dei buoi di Chieuti e di tanti altri in cui la sagra è basata sul fatto che i buoi che sono animali lenti sono costretti a correre fustigati perché per loro natura non lo farebbero portando dei pesi enormi e quindi terrorizzati sottoposti a fatiche estreme con una folla intorno che inneggia queste cose queste sono forme legali tra l'altro rispetto a queste forme istituzionalizzate di violenza diciamo che abbiamo un atteggiamento spesso molto schizofrenico nel senso che alcune di queste forme di violenza vengono esaltate da chi le mette in pratica mi riferisco per esempio alla caccia se voi vi togliete lo sfizio di collegarvi con i siti dei cacciatori trovate l'esaltazione della caccia hanno l'orgoglio di quello che fanno hanno il piacere di uccidere gli animali anche se la caccia ovviamente è sottoposta a una revisione da parte di moltissime persone altrettanto per la pesca le sagre vi ho già detto sono momenti di gaudio collettivo e via dicendo rispetto ad altre forme invece di tortura e di incrudelimento sugli animali il nostro atteggiamento è quello del nascondimento e mi riferisco essenzialmente ai macelli e in gran parte ai laboratori di vivisezione cosa sono che situazioni si creano in questi casi sono situazioni in cui gli animali sono posti sono sottoposti a una crudeltà a una violenza veramente senza limiti non hanno scampo sono assolutamente indifesi ma questi posti sono normalmente chiusi alla vista della gente comune che non può assolutamente entrare ma sono luoghi di grandissima sofferenza e questo atteggiamento di nascondere questi luoghi porli lontano dalla vista delle persone è un modo per negare per non far sapere quello che succede dico questa cosa molto spesso negli ultimi anni si è sentita ripetere la frase secondo cui se i macelli avessero le pareti di vetro saremmo tutti vegetariani o vegani personalmente non ci credo per niente nel senso che proveniamo da un lunghissimo periodo di tempo e altre nazioni sono ancora all'interno di questo che noi consideriamo una sorta di medioevo in cui l'uccisione pubblica i macelli erano avvenivano la macellazione degli animali avveniva nelle strade era fatta davanti a tutti questa cosa non ha affatto portato alla chiusura alla cessazione di questo stato di cose ma ha portato invece e portava regolarmente a una forma di desensibilizzazione perché siamo fatti in modo tale che siamo capaci di abituarci a tutto e quando la macellazione veniva ripetuta dal momento che veniva ripetuta quotidianamente c'era una sorta di assuefazione come c'è in moltissimi paesi in Asia mi raccontano dei mercati eccetera dove queste cose vengono fatte regolarmente noi occidentali che siamo poco abituati fortunatamente a questo genere di comportamenti inorridiamo ma loro che li vedono davanti agli occhi tutti i giorni sono assolutamente assuefatti per cui io sono convinta che il fatto che queste cose avvengano non alla luce del sole abbia degli elementi positivi che sono quelli di di non assuefarci alla reiterazione della crudeltà perché se questo avvenisse sarebbe veramente facile che torneremmo indietro di secoli ovviamente questa non è la soluzione quello di nascondere però dico che il vergognarci in qualche modo di quello che facciamo o di quello che viene fatto da altri è perlomeno un primo passo che ci disabitua ad avere sotto gli occhi costantemente determinati tipi di spettacoli e quindi non prendere più atto della crudeltà e dell'ineaccettabilità di queste cose penso che sia quello che avviene appunto a Iulina in questi posti dove la gente che abitualmente ci va non viene assolutamente colta né da sensi di colpa né altro c'è un'altra cosa che volevo sottolinearvi rispetto a questo discorso e che si collega anche con il discorso di gorgona nel momento in cui noi non siamo vegetariani né vegani quindi ci nutriamo di prodotti di origine animali anche se siamo anime belle e sensibili dobbiamo accollarci la responsabilità di delegare ad altri il lavoro sporco qualcuno lo fa per noi qualcuno va ad ammazzare questi animali perché non si suicidano e quindi dobbiamo dare per scontato che è questa cosa che succede allora io credo che dovremmo fortemente riflettere sulle responsabilità che ognuno di noi si assume delegando questo lavoro sporco tenete presente questa cosa i lavori dei macelli sono considerati inevitabili proprio perché qualcuno questo lavoro lo deve fare però nel corso della storia sono sempre stati retenuti dei lavori sporchi dei lavori da affidare alla parte più sfortunata della popolazione nell'antichità erano gli schiavi che lavoravano nei macelli ma ancora oggi la situazione non è molto cambiata in India sono i paria a cui vengono affidati negli Stati Uniti molto spesso sono gli immigrati clandestini spesso quelli che provengono dal confine del Messico che vanno a lavorare in questi posti addirittura sono arrivate notizie pubblicate sui giornali che in Canada che in Canada mancando operatori canadesi disposti a lavorare in questi posti sono stati impiegati degli immigrati di recente immigrazione proveniente dalla Siria per cui i profughi che scappavano da una situazione terribile come quella della guerra prolungatissima che sta avendo luogo tra infinite crudeltà in Siria venivano poi impiegate nella macellazione degli animali che cosa succede? succede questa cosa che la reiterazione di comportamenti di atti di azioni così tanto crudeli crea un clima crea un clima particolare e le persone che quotidianamente sono portate a ripetere questi gesti perdono la sensibilità per forza di cose c'è un fenomeno che possiamo chiamare di brutalizzazione non posso uccidere per otto ore al giorno esseri viventi che in tutti i modi mi comunicano la loro sofferenza e il loro disperato tentativo di sottrarsi a quello che sto facendo e contestualmente rimanere una persona sensibile quindi affidare a persone in stato di detenzione un'operazione di questo genere è veramente quanto di più insensato si possa immaginare proprio perché viene affidato a persone che dovrebbero essere rieducate avrebbero bisogno di un procedimento di educazione al rispetto per gli altri si insegna loro esattamente l'opposto tenete presente questa cosa molto spesso quello che succede nei macelli esce alla ribalta della cronaca per alcune cose che succedono soprattutto negli ultimi anni in cui molte associazioni animaliste si sono date molto da fare hanno fatto delle inchieste e sono entrati a filmare quello che succedeva hanno portato alla conoscenza delle persone il fatto che molto spesso questi animali oltre a essere sottoposti a quello che viene ritenuto normale perché per arrivare al momento della loro uccisione anche a tutta una serie di crudeltà e di torture che trascendono la tra virgolette necessità di quello che sta succedendo quando queste cose arrivano all'opinione pubblica e c'è un certo clamore le aziende di solito si precipitano a spiegare che si tratta di uno scandalo attribuibile alle solite mail e marce che tutto funziona perfettamente tranne quello sfortunato episodio la realtà è diversissima nel senso che quando in tutti i vacelli in cui vengono fatte delle inchieste fuoriescono questo tipo di comportamenti e c'è una spiegazione a questa cosa intanto se si vive in un ambiente brutalizzato non si può non brutalizzarsi in piccola o in grande parte perché è assolutamente inevitabile e poi ci sono anche altri meccanismi molto particolari che entrano in gioco vale a dire se io ammazzo degli animali ammazzo degli esseri senzienti e lo faccio in continuazione in qualche modo devo convincermi che sto facendo la cosa giusta che quell'animale lì se lo merita di essere ammazzato vi faccio un esempio chiunque qualunque persona che compia un atto di aggressione di violenza nei confronti di un'altra persona spessissimo mentre lo fa la insulta pensiamo per esempio ai femminicidi di cui tanto si parlano l'uomo che uccide la donna mediamente lo fa insultandola non dicendogli cose carine ma perché perché in quel momento lui per forza di cose deve essere convinto che lei se lo merita di essere accoltellata bruciata acidificata quant'altro ancora e questo è vi ricordate che era la mia generazione cresciuta con dei film di cowboy indiani il cowboy ammazzava sempre gli indiani dicendogli i peggiori epiteti della terra l'assassino che ammazza un altro lo insulta perché perché dobbiamo convincerci che che se lo merita quello che gli stiamo facendo questa cosa avviene anche nel corso delle guerre nelle guerre quello che succede è il fatto che c'è un proliferare di atteggiamenti che tendono a fare del male al cosiddetto nemico al di là di ogni necessità se la necessità presunta è quella di ammazzarlo però sappiamo tutti benissimo che durante la guerra succede di tutto ci sono gli stupri ci sono le uccisioni di bambini ci sono le ruberie e c'è tutto il resto ma perché questa cosa perché se si vive in una situazione che è basata sull'esaltazione della violenza i freni morali a quel punto sono tutti quanti caduti e decaduti e la parte peggiore dell'essere umano fuoriesce in quel momento questo è quello che succede inevitabilmente anche nei macelli perché è la realtà che porta a questo stato di cose mi dite quanto tempo un po' per fortesia benissimo grazie allora quindi questa cosa rispetto appunto ai macelli e alla realtà dei macelli nelle carceri credo che non abbia bisogno di altre spiegazioni perché è assolutamente evidente vi dicevo prima che in gran parte delle situazioni in cui mettiamo in atto una violenza nei confronti degli altri abbiamo fatto abbiamo fatto nostra l'abitudine di una negazione di questa cosa che succede occultamento e negazione come vi dicevo per cui per esempio i macelli sono posti in luoghi che non sono accessibili non ci possiamo andare se anche uno vuole andare occorrono dei permessi speciali che non vengono dati facilmente e lo stesso avviene per esempio nei laboratori di vivisezione dove c'è una sorta di impedimento ad accedere vi invito a riflettere su come la nostra mente umana sia particolarmente articolata e anche capace di trovare tutta una serie di scappatoie per esempio il processo di negazione di rimozione di quello che noi comunque continuiamo a fare trova delle vie veramente incredibili per fuoriuscire non soltanto mettiamo i macelli in luoghi inaccessibili tanto è vero che nella stragrande maggioranza dei casi nessuno di noi sa dove si trova un macello e gli indizi che abbiamo sono semmai gli autocarri che vediamo passare in autostrada con il loro carico di animali portati a morire ma addirittura sono succesi dei fenomeni veramente particolari negli ultimi anni per esempio c'è stata una grande un grande battage contro l'uso delle pellicce che sono considerate oggi molto poco politicamente corrette soprattutto le nuove generazioni persino alcuni stilisti dicono la pellicce dell'animale e quindi sono state sono molto in disuso anche se non sono certo scompase però pensate a quanti inserti con il piumino d'occa che in fondo è veramente pochissimo lontano dal punto di vista dell'operazione morale che c'è dietro dalle pellicce per riempire i piumini di piumini d'occa bisogna spennare vive una quantità assolutamente infinita di ocche che vengono spennate vive e poi rispennate ancora perché questa spennatura delle ocche non coincide purtroppo per niente alla loro morte ma si aspetta che queste piume ricrescono e vengono spennate si fa finta di non capire si fa finta di non conoscere tant'è vero che quando credo un anno fa due anni fa su report andò fu proiettata appunto la visione di quello che succedeva in questi luoghi ci fu un grande clamore tutti quanti si meravigliarono molto e ci fu anche chi si arrabbiò molto perché questa cosa era diventata di dominio pubblico ora la dice lunga questa cosa ma come non mettiamo più le pellicce perché rispettiamo gli animali però se sono messe all'interno come inserti allora questa cosa qui non ci tocca più vi rendete conto a quale livello di rimozione arriviamo e di negazione basta che le cose non siano esattamente sotto i nostri occhi perché noi ci dimentichiamo totalmente del fatto che queste cose esistono e ci riteniamo assolutamente cittadini non violenti perché rifiutiamo la violenza per il semplice fatto che la allontaniamo dai nostri occhi bene diceva prima Davide quando diceva anche noi noi non possiamo fare la morale più di tanto più di tanto perché sono d'accordissimo anch'io che c'è una differenza tra una legislazione che dice che gli animali non devono essere sottoposti a trattamenti inumani e invece una legislazione che permette forse incentiva che gli animali vengano sottoposti a ogni sofferenza e dolore proprio per rendere la carne più buona però è anche vero che tutti quanti noi conviviamo con l'esistenza appunto di allevamenti intensivi di matatoi in cui quello che viene fatto ai cani e ai gatti in alcune parti del mondo viene regolarmente riservato ai maiali ai vitelli alle mucche a tutti gli altri animali di cui normalmente ci nutriamo allora il grande problema è proprio questo quando noi parliamo di link che legano tutte le forme di violenza tra di loro come la mettiamo con tutte queste storie se è vero come è vero che viviamo in una civiltà in una società in un ordine di cose in cui la violenza è sistemica perché è interna al sistema perché i macelli sono assolutamente legali perché la vivisezione è legale perché la caccia è legale allora come possiamo pensare che semplicemente perché mettiamo l'etichetta di legalità a certe situazioni queste stesse situazioni non si ripercuotano psicologicamente con la stessa valenza e la stessa forza su chi le compie ma anche sugli altri il cacciatore che a norma di legge pagando la sua quota annuale va ad ammazzare quanti più animali riesce e a vantarsene e il pescatore che fa altrettanto perché poi c'è una sorta di gara in queste cose a chi pesca il pesce più grosso e tutto il resto come come recepisce quelli che sono i risvolti di questi atti violenti noi ci stiamo illudendo in tutta una serie di situazioni che l'etichetta di legale sia sufficiente a privare degli atti che sono invece di enorme violenza di quella stessa violenza vi faccio questo esempio che secondo me è sistematico le nutri e non so se lo sapete sono le nutri è il nome dei castorini che sono quegli animali che fino ad alcuni decenni fa venivano molto usate per le pellicce che furono importate dal Sud America perché la moda li richiedeva cos'è successo a un certo punto le pellicce di castorino non si sono più usate i castorini vale a dire le nutri sono state liberate e sono state dichiarate animali da proteggere animali sotto protezione per cui non si poteva fare niente di loro a un certo punto gli studiosi hanno deciso hanno affermato che la presenza delle nutrie era pericolosa perché rovinavano gli argini dei fiumi e a lungo andare potevano provocare delle inondazioni tra l'altro queste sono delle affermazioni non scientificamente provate ma sostenute solo da una parte di chi si occupa di queste cose comunque a monte di questo che cosa è successo che da un giorno all'altro è stata fatta una legge e la nutria che prima era animale che fino a quel giorno era animale protetto è stato trasformato in animale nocivo questa cosa ha significato che esattamente dalla mezzanotte del giorno dopo le nutrie che non potevano essere toccate esattamente come i cani i gatti i nostri animali d'affezione a quel punto potevano essere cacciate non solo potevano essere cacciate dovevano essere cacciate e sono state fatte delle leggi incredibili per cui potevano essere cacciate non soltanto negli orari canonici in cui la caccia è aperta e nei giorni canonici ma addirittura la caccia alla nutria poteva essere fatta in certe regioni a ritmo continuo e addirittura venivano sono state distribuite delle munizioni gratis ai cacciatori affinché uccidessero le nutrie quindi vi rendete conto come uno stesso atto da un'ora all'altra passa da essere un atto assolutamente inaccettabile a un atto meritorio ma l'atto è lo stesso e chi uccide la nutria o chi assiste all'uccisione della nutria ha gli stessi risvolti psicologici prima e dopo l'approvazione di una determinata legge e guardate che questo caso della nutria è uno dei tanti perché ne avvengono tantissime anche in Australia si è fatta la stessa cosa con i rospi e cos'è successo a un certo punto con i rospi che nel momento in cui sono stati considerati degli animali nocivi e quindi da distruggere i ragazzini per la strada si sono sentiti autorizzati per esempio a usarli come palla da baseball insomma e quindi da far roteare con le loro mazze e cose del genere quindi sdoganando una forma di violenza che fino al giorno prima era assolutamente non accettata e non accettabile allora finisco con un ultimo esempio sempre a proposito delle carceri c'è una sociologa australiana che si chiama Nick Taylor la quale un paio d'anni fa nel momento in cui in Australia si decise che bisognava insegnare ai detenuti di un determinato carcere un'attività in modo tale che nel momento in cui fossero stati liberati avrebbero potuto riciclarsi e mettere in atto un lavoro che avessero insegnato che avessero imparato nel corso della loro detenzione beh il dipartimento aveva deciso che fossero mandati nel macello comunale a imparare come succedevano gli animali ecco questa sociologa scrisse una lettera appassionata alle autorità in cui si diceva ma vi rendete conto che stiamo insegnando alle persone a superare tutti i limiti della loro sensibilità a mancare di rispetto a degli esseri senzienti e aggiunse ci sono un sacco di lavori che non hanno che non comprendono e non contengono il disordine morale che è insito invece nell'essenza stessa dei macelli e mi viene in mente per associazione che questa stessa espressione disordine morale è quella che venne usata negli anni 50 dallo scrittore Albert Camus il quale si occupava in quel tempo di combattere la pena di morte che ancora era in vigore anche in Francia nelle colonie francesi e tutto il resto e lui stesso affermava che le persone deputate a uccidere perché se c'è la pena di morte qualcuno deve pur farla questa cosa ed era il boia e lui etichettava appunto la professione del boia come una professione impregnata di disordine morale e mi ha veramente colpito vedere come la stessa espressione identica sia stata usata in tempi diversi a decenni di distanza da uno scrittore filosofo studioso e da una sociologa in due diverse parti del mondo tutte e due riferite a situazioni in cui l'uccisione di animali che avviene in modo assolutamente legale però porta con sé disordine morale ecco fermo perché si potrebbe se no continuare troppo quello che volevo chiedere è quando si dice che non c'è il genere della violenza però storicamente sia animali umani che non umani hanno comportamento aggressivo e abbiamo anche un sistema nervoso simpatico che è quello dell'attacco o della fuga quindi potrebbe essere rivolto magari alla fuga tante volte quindi il fatto che i muscoli aumentano il tono la pupilla si dilata eccetera abbiamo quindi un atteggiamento molto radicato di una risposta di azione in certi casi perciò volevo chiedere come si collega questo al fatto che non c'è un gene della violenza se comunque si può fare una riflessione su questo grazie non c'è il gene della violenza ma certamente abbiamo un cervello estremamente complicato all'interno del quale le aree Marco forse sta a spiegare meglio di me questa cosa sono deputate a azioni reazioni diverse ci sono le aree deputate alle emotività ci sono le aree deputate a una singola cosa il discorso che viene fatto sempre più è che i nostri comportamenti non esprimono diciamo la realtà di un singolo gene ma sono l'espressione della cooperazione o della non cooperazione di varie aree cerebrali che però sono diciamo non hanno un'espressione che è diretta ma mediata dall'ambiente voglio dire una stessa formazione cerebrale una stessa apparato genetico può manifestarsi con modalità assolutamente diverse a seconda del modo in cui un bambino crescendo è stato in qualche modo modellato cioè tutte le nostre azioni provengono dall'espressione della nostra biologia mediata però dal comportamento dal singolo comportamento come dall'ambiente certo dal comportamento questo si chiama epigenetica quindi il concetto riduzionista che un gene un comportamento un carattere ormai è ampiamente superato prima di tutto perché esistono popolazioni genetiche e secondo perché i geni non sono più delle strutture fisse e ereditabili o trasmissibili in modo automatico ma sono sottoposte all'influenza ambientale e culturale quindi l'influenza poi si può trasmettere e quindi siamo dei soggetti costantemente malleabili influenzabili modificabili e queste cose si trasmettono e aggiungo da medico veterinare omeopata che se tu curi qualcuno in modo corretto con l'epatia prima del concepimento il miglioramento energetico e quindi genetico lo trasmette alle future generazioni e quindi tendi a migliorarle e questo si inserisce dentro un'ottica di approccio olistico alla vita a tutti i fenomeni dal gene alla questione animale Germano tanto vi ringrazio perché sono occasioni per riflettere su cose che spesso diamo per scontate allora tanto volevo provare a portare una riflessione sulla violenza noi siamo una delle società che demonizza più di tutti la violenza e poi la agisce in maniera rimossa o negata in segreto o in maniera nascosta la violenza è una parola violare violare vuol dire anche violare un'idea violare un'opinione violare una immagine del mondo quindi violare una serie di informazioni che noi portiamo con noi e che con l'epigenetica e con l'ambiente che può essere funzionale o disfunzionale continua ad informarci quindi è molto importante ad esempio Gandhi che forse è il più grande referente dell'Aisha della non violenza lui diceva io sono per la non violenza nel senso che la non violenza è una disobbedienza attiva rifacendosi a Turot lui diceva io preferisco una persona che vedendo un atto di violenza inflitto su un essere più debole intervenga violentemente piuttosto che con la scusa della non violenza si giri e vada via quindi è molto sottile il ragionamento sulla violenza la violenza direbbe Jung se noi non la portiamo in coscienza diventa ombra e quindi agisce senza che noi la possiamo portare come direbbe Marco in dose omeopatica la dose omeopatica della violenza è assolutamente funzionale al buon funzionamento di una relazione anche omeostatica cioè per raggiungere un equilibrio non c'è l'assenza di violenza c'è una violenza assolutamente equilibrata che abbia una risposta a ciò che arriva dall'esterno che sia equilibrata quella risposta questo è importante perché se no molto spesso anche oggi noi abbiamo qui di fronte un bar nel festival dove c'è scritto perché c'era una polemica polemos era il dio della guerra che però Eraclito diceva è il fondamento della realtà cioè la polemica è qualcosa che è funzionale alla crescita individuale senza polemica non c'è crescita allora questa persona sul suo gazebo ha scritto per provocare polemicamente la libertà etica ecco ad esempio questa è una è una semplificazione assurda noi abbiamo la mitolo abbiamo mitologizzato la libertà il liberalismo ha portato a questo in realtà la libertà è semplicemente l'arena dove l'eticità viene portata in atto cioè la libertà mi porta a una responsabilità e quella responsabilità porta il mio agire in una direzione di bene di distruttività e quindi diciamo di etica positiva oppure di distruttività e quindi di etica negativa la libertà di per sé è solo responsabilizzante non è un bene etico di per sé Hitler era libero e ha usato quella libertà una volta raggiunta per fare quello che ha fatto un'altra cosa che mi viene da dire che mi avete ispirato Davide che tra l'altro ringrazio per il grande impegno che ci mette eroico ha detto una cosa che però mi ha fatto riflettere Levi Strauss diceva noi notiamo sempre l'assurdità nelle credenze degli altri mai nelle nostre tu hai detto prima hai detto questa questa idea che far soffrire gli animali porti a aumentare la virilità è una credenza sua in realtà è la credenza su cui la nostra società si basa la nostra società maschilista la nostra società agonista la nostra società crudele la parola crudele è quando un frutto è crudo è duro e gli uomini hanno imparato a desensibilizzarsi perché essere sensibili vuol dire essere morbidi e quindi non duri e non virili l'idea di virilità è esattamente quella cosa lì quindi portare violenza e mangiare violenza crea in me e dolore e sofferenza crea in me una distanza che è esattamente quella che raccontava prima la dottoressa rispetto all'educazione dei nazisti che facevano esattamente questo anestetizzavano le persone allora a me torna in mente secondo me è una cosa che è fondamentale il paradigma dominante va cambiato perché noi per secoli Rudolf Steiner diceva che noi dobbiamo recuperare quella che è l'intelligenza estetica l'estesis dei greci cioè l'intelligenza del sentire noi ci siamo focalizzati sull'intelligenza teoretica questo è quello che poi ha portato un'infinità di professionisti c'era una bella lettera di un sopravvissuto ai campi di sterminio che nel giorno della memoria ha scritto a Le Monde dicendo io era rivolta alla come si dice all'istituto di educazione francese e questo signore diceva io ho avuto a che fare con dottori brillantissimi che hanno operato su di me cose indicibili c'erano infermieri altamente professionali e altamente istruiti che agivano cose orribili quindi diceva invece di insavorrare i nostri figli di nozioni e di teorie educhiamoli alla sensibilità e all'umanità diceva lui io dico all'intelligenza estetica che è esattamente quella estesis che i greci credevano fosse il fondamento dell'armonia interiore senza quella non può esserci niente e quello che noi viviamo abitualmente invece è una società che spinge nella direzione opposta c'è una grande dibattito una grande polemica oggi però credo che le persone che hanno la sensibilità io sono emozionato adesso potrei vergognarmi della mia emozione io credo invece che la mia emozione sia un regalo per voi vedete anche mi trema il labbro ma questo l'ho dovuto imparare perché quello che ci viene raccontato è il contrario ci viene raccontato che io mi dovrei vergognare della mia emozione e questo è assurdo è proprio quello che porta all'anestesia del nostro sentire perché per sentire dobbiamo anche sapere che sentire corrisponde a soffrire e avere la fierezza del nostro soffrire è l'unica strada per sbaragliare questo paradigma dominante che va nella direzione opposta quindi solo questo vi volevo e ringraziarvi perché è davvero un'occasione sia il Parmaetica che voi che siete qua a fare questa cosa grazie grazie volevo scusate volevo aggiungere volevo chiarire una cosa perché abbiamo sentito più volte ripetere la parola educazione il carcere si fonda sulla rieducazione ricordo che educazione ed emozione hanno la stessa radice cioè portar fuori allora io tengo molto alla questione educativa tra l'altro come veterinario appartengo ad un dipartimento della prevenzione per me prevenzione la vera prevenzione vuol dire educare avendo visto cosa sono gli effetti nefasti della cattiva o dell'assenza di educazione allora per evitare di doverli rieducare io credo che dobbiamo partire dalla educazione allora però ho necessità di ricordarvi questo passaggio importante in Gorgona vi ho messo questa foto questa maialina bruna si era traumatizzata mi avevano proposto di acconsentire a mandare al macello tanto non guarisce la uccidiamo allora perché invece vale il principio che se uno sta male deve essere curato abbiamo iniziato un percorso di cura questa maialina che doveva andare al macello è diventata addirittura la protagonista di un percorso didattico anche di un libricino per i bimbi ma qual è la cosa fondamentale che le persone detenute hanno fatto un'esperienza diretta concreta cioè hanno partecipato e tra l'altro i protagonisti erano due detenuti cinesi guarda caso hanno partecipato in modo attivo e diretto alla cura di un animale che era stato deputato che era stato considerato assolutamente inguaribile perché era paralizzata una volta partecipata alla cura dell'ultimo degli ultimi cioè del soggetto macellabile cioè quello che non aveva più speranze e che era stato conosciuto da questi bimbi della scuola dell'infanzia che poi hanno chiesto il decreto di grazia e la maialina bruna passata dal numero 006 a bruna il passaggio salvati con nome salvati con nome ha permesso a queste persone di fare una riflessione cioè se io mi prendo cura del maiale che non aveva speranza e dedichiamo tutte le nostre energie per il principio di cura dell'ultimo e tra l'altro lo curiamo e lo completamente ristabiliamo perché non operiamo un passaggio sul malato sociale che abbiamo messo in carcere e ci prendiamo cura dell'ultimo cinese che troviamo in carcere o della persona detenuta che sta assumendo psicofarmaci come questa persona nella foto del libro che è completamente smesso grazie alla somministrazione della natura del lavoro e della relazione quindi il concetto io faccio un'esperienza diretta mi educo a questo cambiamento di prospettiva cioè l'ultimo che è completamente in mio potere che io potrei macellare con il consenso sociale giuridico etico economico e tutto io dico alt mi fermo e faccio un'esperienza di rottura questa è rivoluzionaria cioè cambio completamente il paradigma quello che è mio potere io lo lo salvo lo salvo e questa salvezza mi aprirà altri mondi il mondo dell'infanzia il mondo dell'educazione il mondo dell'editoria il mondo delle relazioni e Bruna ha aperto il mondo a decreti di grazia per altri soggetti animali particolari che tra l'altro speriamo di allargare a tutti quindi questa esperienza un po' per rispondere alla tua domanda questa esperienza rivoluzionaria della violenza cioè io la vorrei calare proprio nel in questo grande laboratorio etico sociale che è Gorgona perché lì abbiamo tutti gli ingredienti per operare questo cambiamento ma attraverso un'esperienza diretta tutto quello che io dico nasce da un'esperienza diretta e queste persone devono uscire dal carcere con un'altra prospettiva di vita di vita emotiva di vita spirituale di vita sociale di vita lavorativa perché i lavori Anna Maria l'ha raccontato e che purtroppo ai quali purtroppo come dire cooptiamo per i quali cooptiamo persone con pochi diritti o con poche speranze non danno chance a persone che invece devono essere riabilitate per cui abbiamo bisogno abbiamo una grandissima necessità di un altro tipo di idea di lavoro a livello di economia e ovviamente di relazione con i non umani voglio dare tre piccoli contributi molto rapidi io il mese scorso ho frequentato un corso di aggiornamento sugli ecoreati alla Bicocca di Milano e una delle lezioni verteva proprio sui reati verso gli animali è emersa una cosa interessante che riguardava prevalentemente i cani e in particolare questi fenomeni di avvelenamenti con i bocconi è emerso che negli Stati Uniti non vengono presi così tanto alla leggera come qui ma c'è una task force di investigatori con mezzi con laboratori mobili e gestiscono questi luoghi in cui vengono dispersi i bocconi come una scena del crimine con analisi con prelevi di campione quindi una cosa che per noi è lontana anni luce ma ci si augura di arrivarci la seconda cosa sulla gestione anche degli animali eccetera in Lombardia per esempio esiste una legge regionale che protegge tutta la fauna selvatica quindi se uno una guardia provinciale trova per esempio un forestale una nutria investita da un'auto piuttosto che un cinghiale o una volpe ha l'obbligo di soccorlo portarlo nei centri di cura nei crass e poi ci sono i piani di abbattimento per le nutri e le volpi e i cinghiali quindi queste incongruenze e queste contraddizioni molto profonde l'ultima cosa che riguarda proprio la normativa sul benessere animale e sui reati verso gli animali in molti degli allevamenti esiste non esiste il rispetto della normativa sul benessere animale che è ridicola comunque e quando intervengono molto spesso vengono fatte intervenire per esempio le ASL non procedono a denunciare in procura della Repubblica per matrattamento animali ma nella migliore dell'ipotesi danno una sanzione quasi sempre solo una prescrizione a mettersi a posto grazie buonasera io sono Lilia Casali fondatrice di Animal Liberation e operiamo principalmente a Bologna sono è dal 1980 che mi occupo di difesa degli animali e raramente ho ascoltato delle relazioni così interessanti e toccanti io ho vissuto qui emozioni forti ma anche il piacere di sentire un livello altissimo anche a livello culturale ad esempio da una parte il coraggio di Accita coraggio ed efficienza capacità di intervento perché a piangere siamo capaci tutti alla fine ma agire con efficacia sono molto pochi il link lo conoscevo è prestabilissimo non c'è bisogno che spenda parole mi ha colpito molto il ribaltamento culturale del dottore perché io ho frequentato parte di veterinaria ho sofferto molto discutendo con laureati laureandi e docenti che affermavano che gli animali diversi dall'uomo non provano dolore perché la neocorteccia non c'è o non è sufficientemente sviluppata e quindi quando sento un veterinario che ribalta così proprio il paradigma culturale mi emoziona e la dottoressa che ci ha parlato finalmente sento una persona parlare di violenza istituzionale e tutto questo veramente mi dà anche un gran conforto perché se negli ambienti colti comincia a farsi strada un pensiero di questo tipo io credo che abbiamo speranza e forse è anche l'unica volevo dirvi che secondo me la legge 189 l'articolo 544 che fu salutato da parecchie associazioni ma non da tutte ad esempio da noi no come un gran passo in avanti ha portato sì a un inaspiramento delle sanzioni ma ha portato una biforcazione delle terie perché divide gli animali di serie A e di serie B va ad aumentare molti a punire in realtà gli atti privati di crudeltà sugli animali ma l'industria di sfruttamento e di crudeltà la catena grandi catene di montaggio di crudeltà la caccia gli isola vivi sezione i macelli i circhi sono non toccati non riguardati dalla 1809 che lo dice esplicitamente in quanto dice sono argomenti già disciplinati da leggi specifiche ma non è la stessa cosa perché quelle sono sanzioni leggere mentre la sanzione penale è quella forte è rimasta solo per l'atto privato se agito con dolo quindi io faccio questo discorso perché siccome viene fuori anche da certi politici io ho letto l'onorevole Bernini che era deputato con i 5 Stelle e tra l'altro è di Bologna l'ho anche conosciuto ho letto un suo post su facebook che diceva io mi stavo adoperando per incardinare una nuova legge sul maltrattamento animale che inasprisse no non che inasprisse sarebbe stato corretto che introduca il carcere per chi commette crudeltà e questo è assurdo perché il carcere è già previsto ma con l'esclusione di tutti gli animali dell'industria dello sfruttamento quindi e quindi io faccio questo appello a voi perché siccome viene anche da parte di molta gente nell'ambito animalista il discorso bisogna aumentare le pene ma aumentare le pene mantenendo questa biforcazione e poi aumentare le pene può essere pericoloso io ho un amico giudice che mi diceva guarda che se il giudice si trova incerto se condannare o assolvere se la pene è alta nell'incertezza può assolvere quindi è meglio una pena più ridotta veramente data piuttosto che il rischio di una soluzione e comunque volevo richiamare la vostra attenzione sulla necessità di essere vigili di fronte a manovre che potrebbero aumentare di molto le pene per il singolo individuo che evidentemente ha dei problemi se va a torturare un animale e invece lasciando campo libero all'industria della tortura che concludo Ennio Flaiano ha scritto che la schiavitù degli animali è la più grande industria di sfruttamento della storia ed è lì che deve esserci la nostra attenzione soprattutto perché sono quelle le masse enormi di sofferenza nel mondo e io vorrei anche per ultima cosa fare una distinzione perché si è parlato di violenza io sono stata processata varie volte con l'accusa di aver liberato degli animali dal laboratorio ho appoggiato le azioni di Alfa io le ho difese perché Alfa non ha mai usato violenza Alfa ha sempre detto che bisogna fare azioni di liberazione degli animali ma senza portare danno a nessun essere vivente nemmeno al vivisettore allora una parte di alcune associazioni animaliste hanno accusato me e altri miei compagni di terrorismo ma noi non noi non distinguiamo bisogna distinguere la legalità illegalità di un'azione dalla violenza o non violenza un'azione può essere non violenta ma illegale perché se la legge è iniqua possiamo decidere di anche liberare una vittima che è come liberare io l'ho detto in tribunale un deportato in un lager lo possiamo liberare facendo un'azione morale e lecita benché illegale non dobbiamo perdere questa capacità di distinzione quando parlavo di non violenza rispetto agli esseri umani altre domande magari rapide io avevo una domanda per Davide a città lei prima ci ha detto che voi adesso non le acquistate più gli animali i cani quindi come fate a liberarli beh non è semplice rispondere a questa domanda il punto è che noi abbiamo capito che nel corso degli anni acquistare direttamente i cani al mercato si diciamo riscattare praticamente riscattavamo una vita per noi comunque era importante però poi diciamo questo non ha fatto cioè abbiamo constatato che questo mercato in qualche modo veniva alimentato e finanziato questi soldi poi alla fine rafforzavano i mercanti non ho dormito per anni per capire perché poi tra l'altro qualsiasi organizzazione che interviene in Cina anche se non lo ammette perché poi andrebbe contro l'etica di chiudere il festival insomma ecco e dunque noi abbiamo trovato questo sistema noi i cani non li acquistiamo direttamente pagando i butcher e intervenendo su una slotter house o su un punto di intervento ma abbiamo optato vari tipi di interventi cioè più tipi di interventi all'interno di tre quattro più slotter house questo perché così riusciamo a prendere dei un piccolo quantitativo di cani per ogni slotter house sicuramente qualcosa viene viene diciamo qualcosa esce viene erogato non per come acquisto del cane ma prima di intervenire in una slotter house ci sono delle investigazioni dunque si capisce il nostro gruppo il 5 di giugno era già nelle periferie di Yulin per individuare alcune delle slotter house e su quali slotter house si potesse lavorare insomma dunque individuare la slotter house o chi ci lavora che può essere corrompibile insomma dandogli una mancia dandogli qualcosa in questo modo noi non andiamo a rafforzare quell'economia perché quei soldi non finiscono in mano a un dog taylor ma alla fine c'è qualcuno che ci dà una mano per far uscire questi cani e questo per tre per qualche slotter house in alcune slotter house noi riusciamo a farci cedere dei cani perché sono cani vi spiego come funziona loro hanno un numero di cani da uccidere su richiesta in una slotter house tipo oggi c'erano 100 cani noi siamo riusciti a prenderne 38 in questa giornata loro sono 6 ore avanti dunque qualche ora fa e praticamente siamo riusciti a prendere 38 cani senza neanche corrompere nessuno senza pagare con un blitz all'interno questi cani sarebbero rimasti là e magari uccisi per il giorno dopo siamo riusciti a farci cedere questi cani tra cui anche ci sono delle delle cagnette che sono gravide dunque c'è già un intervento medico e tutto dunque il nostro tipo di intervento è più centrato su questo il prossimo step se ci sarà una seconda fase però noi aspettiamo veramente abbiamo deciso per i prossimi anni di optare per un altro tipo di intervento più sulla sensibilizzazione che più che con l'attivismo si no non ancora saranno delle ETS ancora quest'anno non lo riceviamo abbiamo fatto una richiesta cambiano le Ollus dunque non ci sono più siamo ETS dunque ci sarà data questa possibilità dal prossimo anno ok tutto qua sì vabbè mi hai fatto bene a precisare questa domanda perché comunque molta gente ci ha appoggiato poi il nostro numero di haters è cresciuto poi comunque valgono poco perché è gente che non ha sì ecco non ce lo chiediamo nel c'è ce lo chiediamo anche noi perché ho riscontrato una cosa io sono andato molto in crisi no dopo i miei interventi il mio primo intervento a Ioline ero l'uomo più felice del mondo perché sono tornato a casa senza poi seguire questa cosa perché non ero organizzato io volevo solo salvare quei cani gli abbiamo dato una donna basta ero l'uomo più felice del mondo il secondo intervento è stato quello dove un'organizzazione si è prestata a darci una mano e da lì noi abbiamo diciamo diciamo acquisito no tutti i loro nemici anche se non li conoscevamo e siamo entrati in un vortice dove io proprio con la mia organizzazione non c'entravo nulla della guerra io lo chiamo il torneo il torneo di calcio tutti contro tutti a nessuno gli interessa la fine gli interessa soltanto essere pionieri di qualsiasi battaglia purtroppo questo è l'animalismo oggi non voglio entrare diciamo entrare in parentesi che poi si va un po' oltre però questa è la realtà ok ok se i miei colleghi me lo consentono io nel sentire tutti questi discorsi e questo dibattito concluderei con una frase errare umano e perseverare diabolico che credo riassuma veramente molto bene tutto il dibattito di adesso vi ringraziamo tantissimo per l'attenzione ringraziamo Parmaetica che ci ha permesso di incontrarci e di condividere un po' di idee e di esperienze grazie grazie grazie